buongiorno ragazzi siamo ritornati finalmente in aeroporto dopo lunghissimo periodo che non si viaggiava fa veramente strano vedere come si è tornato tutta la normalità continuate a seguire ragazzi questo viaggio che sarà veramente lungo non vi spoiler nulla per quanto riguarda le destinazioni e le mete che andremo a toccare continuate a seguirmi e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto si corre caffè espresso e tre cornetti per partire alla grande è arrivato il nostro turno stiamo imbarcando sull'aereo america airlines si parte, si vola dopo più di tre anni che l'ambulare locato di tv con tutti i controlli del caso presa della corrente a 110 volt e l'attacco usb poi ci hanno fornito le cuffiette da utilizzare qui per guardare tutti i film e l'intrattenimento che offrono su questo aereo è arrivato il cibo ragazzi quindi polpette almeno una specie di polpette con cavolfiori e purè, panino con semi integrali, burro, una salsina, un biscottino, una torta alle carote e l'acqua tonon quelli sono i carrelli che trasportano le bevande questa è la prima classe dell'america airlines ciao bye in questo botteghino prima dell'uscita dell'aeroporto JFK di New York abbiamo appena fatto la sim per avere la connessione internet per 30 giorni e 5g e chiamate illimitate e anche giga illimitati ragazzi stiamo uscendo proprio adesso dal JFK New York continuate a seguire il video e ne vedremo veramente delle belle la temperatura è abbastanza calda anche qui cerchiamo un taxi circa 9 ore di volo abbiamo fatto Roma New York quella lì in fondo è Times Square ragazzi questa è la nostra camera piccolina ma comunque c'è tutto il necessario qui abbiamo il televisore grande che non utilizzeremo qui c'è lo scrittoio dove lavorerò per questi giorni vediamo la finestra e la vista fuori sulla città di Manhattan abbiamo due grandi letti noi siamo in tre molto pulita i letti sembrano abbastanza confortevoli andiamo a vedere il bagno eccolo qua ci sono tutti gli asciugamani adersivi una bella grande doccia tutto molto bello ordinato e pulito ragazzi alla fine ce l'abbiamo fatta siamo usciti dalla camera praticamente abbiamo fatto Roma New York 8 ore 8 ore e mezza di volo diretto fino al JFK siamo entrati in camera abbiamo riposato un pochino giusto il tempo per fare una doccia e ci siamo subito fiondati qui in mezzo alla grande mela New York qui in mezzo che è questa i profumi sono variegati comunque vanno dalla carne al vegetariano ci siamo fiondati subito nel cuore di Manhattan come si sente appunto da tutte queste sono pazzi sono sono veramente dei pazzoidi tutto megalomane c'ero già stato a New York nel 2010 e siamo ritornati a fare un salto nella famosa New York la sfera che vedete lì sopra è la famosa sfera che si muove ogni anno a Capodanno a salutare appunto l'anno vecchio siamo alle porte di Times Square questa è la fila per Broadway nella stessa la mia stessa la mia stessa la mia stessa è la mia stessa con la mia stessa sono sempre la mia stessa il bel High trovi la mia stessa 2 ma film Castway Ragazzi questa è la mitica sede del giornale New York Times guardate un po' quanto è il grattacielo è veramente enorme Siamo venuti a mangiare in un fast food mexicano io ho preso il burrito questo è il burrito che sembra una bomba come tagliare e non fare danni tagliamo con questo portello che sembra tagliare questo è il contenuto Allora non vorrei sbagliarmi ma quello di fronte a noi è il Madison Square Garden comunque ci avviciniamo per leggere bene magari correggetemi nei commenti ragazzi se mi sto sbagliando comunque vita frenetica a 360 gradi gente che lavora, gente che va in giro veramente sempre conferma la città che non dorme mai wow guardate dietro questa palla meccanica spunta lì l'Empire State Building tutto il suo splendore con il tramonto che lo illumina eccolo lì l'Empire State Building saliremo giorni di sopra andiamo in metro quando si scende o quando si sale bisogna sempre rispettare il lato destro facciamo il ticket corsa singola il ticket vale per due ore costa tre euro a persona qui ci sono i tornelli per entrare nella metropolitana come tutte le metropolitane del mondo ah qua c'è bello fresco allora in teoria qui sono le 20 e 30 ma per noi cioè qui sono le 20 e 30 contanto che per noi non sono le 20 e 30 con il fuso sono tipo le 2 e 30 perché sono 6 ore indietro rispetto all'Italia siamo veramente cotti e comunque dopo aver cenato al ristorante messicano stiamo girovagando per New York alla ricerca così di un'altra cosa stiamo cercando di vedere qualche angolino qualche scorcio così arriviamo proprio alla fine morti praticamente dopo 30.000 giri e sfinimento abbiamo trovato finalmente questa timida insegna nascosta per andare sul ponte di Brooklyn praticamente l'intenzione era andare al tramonto ma penso che siamo dopo il crepuscolo abbiamo bruciato anche la golden hour finalmente siamo sulla parte pedonale del ponte di Brooklyn praticamente il ponte di Brooklyn è l'unico ponte in pietra realizzato totalmente in pietra a New York e ha un percorso per le macchine da un lato percorso per le macchine dall'altro lato e al centro è totalmente pedonale continuate a guardare il video che vi porto proprio sul ponte ed eccolo siamo arrivati finalmente alla parte pedonale fatta in legno il pavimento è praticamente interamente in legno sono tantissime fasce qui ci sono le travi in ferro e da qui si ha una vista veramente lodevole wow wow ragazzi questa è la vera New York come l'abbiamo sempre immaginata wow vista veramente mozzafiato che l'abbiamo fatta ragazzi morti ma ci siamo naturalmente nei prossimi giorni verremo anche di giorno adesso che conosciamo bene la strada verremo anche al tramonto magari a vedere tutta Manhattan nel suo splendore in tutte le luci perché siamo qui sfruttiamo tutto continuate ragazzi a guardare il video vi invito ad iscrivervi al canale e attivate la campanella per ricevere sempre tutte le notifiche su tutti questi episodi che saranno girati qui a New York ci sono flussi di auto in tutte le direzioni ovviamente auto che salgono sul ponte da qui sotto ci sono altre rampe chi va a destra e chi va a sinistra veramente tantissimo movimento in ogni dove mamma mia questa è la prima rampa il classico fumo che esce dai tombini solo a New York penso sia a vapore classico new yorkese non siamo veramente sfiniti torniamo in camera a riposarci un pochino no comment stavo dicendo questa è la pazza New York torniamo in camera e per oggi ragazzi è davvero tutto ciao continuate a seguire il video buongiorno ragazzi questo è il nostro hotel noi siamo alloggiamo al 25esimo piano a piedi da Times Square se lo ricordo da piccoli quando c'era quella pubblicità a Natale andava a fare le consegne con tutta la neve siamo fiondati direttamente dalla adesso siamo sulla 42esima strada giornata veramente molto bella sole è abbastanza caldo stiamo andando in direzione per beccare la quinta strada ci sono i classici carretti dei panini con lo dog new yorkese smash burger wow che meraviglia c'è un murale veramente molto bello da quella parte su quel muro lì smoke shoe continuiamo ancora sull'ottava pieno di negozi naturalmente di souvenir cappellini di new york bellissimi questi palazzi storici con quei salotti o salottini sicuramente la sera illuminato daranno comunque un effetto molto più romantico quella è la new york di una volta è strano com'è tutto intorno abbiamo lasciato comunque un'area libera la pulizia dei vetri naturalmente qui è costante fiorentina italian restaurant and grill ecco il vapore famoso che sgorga dei tombini questo abbiamo trovato Sofì cuba nespres speriamo di trovare di assaporare un bel un buon caffè ci sta penso che basta alzare gli occhi e ti trovi in testa un grattacielo di queste dimensioni veramente bellissimo niente da fare ragazzi quello era soltanto per mangiare quindi siamo alla ricerca di un buon caffè ho visto un'insegna le caffè coffee penso che qui ci dovrà essere sicuramente il caffè vediamo se riusciamo a trovare un caffè degno di nota siamo entrati per il caffè costava 3 dollari 75 centesimi un espresso chiaramente siamo sulla 57esima è una strada dei milionari quindi cerchiamo di andare a trovarlo da un'altra parte magari un po' più economico anche perché dobbiamo prenderne 3 adesso e 3 più tardi siamo arrivati alla Columbus Circle spero di averlo detto bene e lì in fondo naturalmente abbiamo la statua del nostro mitico Colombo abbiamo pensato di prendere uno un estratto quindi uno smoothies o un juice vediamo magari se c'è alle carote qualcosa di fresco perché comunque nei video non si sente ma sta facendo veramente caldo per fortuna ogni tanto c'è qualche colpo di venticello che ci rinfresca un pochino questi grattacieli che svettano così stretti e lunghi sono grattacieli che guardano l'interno del vabbè oltre ad avere comunque la vista su tutta la città ma danno su Central Park questo è il carretto dove stiamo prendendo uno smoothies magari se lo fanno senza latte altrimenti andiamo con il juice il juice è soltanto estratto di frutta io lo vorrei con il ghiaccio però senza latte poi l'abbiamo deciso abbiamo scelto il large 24 odds 8 dollari 8 dollari questo è l'ingresso della Columbus Circle Station e dietro abbiamo uno Starbucks come se non ce ne fosse nessuno a New York invece è veramente pieno alla fine abbiamo preso questo smoothies abbastanza fresco sento parecchio zenzero ci sta siamo sotto la metropolitana e stiamo facendo una specie di card di abbonamento per qualche giorno ma non trovo giusto che ci sia un cavallo in mezzo a tutto questo traffico mi stava facendo davvero pena che comunque è un animale molto istintivo come tutti gli animali ma il cavallo ha una sensibilità particolare io l'ho visto abbastanza infastidito e impaurito comunque dai rumori e da tutto quello che circonda comunque un traffico cittadino smoothies se non mi investono andiamo all'interno di Central Park queste bici elettriche 12 anni fa non c'erano ed eccolo qui siamo all'interno di Central Park siamo entrati appunto dalla Columbus Circle Central Park in una veste più estiva come appunto dicevo siamo dentro a Central Park qui si respira una bella area di pace e profumi di natura stride un pochino con tutto quello che c'è intorno però è un bel parco veramente bello e curato se non erro non vorrei dire fesserie Central Park è uno dei parchi metropolitani più grandi del mondo ah uno scogliattolo di nuovo eccolo che carino fa molto strano vedere uscire quei palazzi da dietro i rami di questi alberi da un certo effetto carretti a volontà abbiamo trovato il carretto Central Park Cafe featuring Illy e quindi ne approfittiamo ho visto che l'espresso costa 3 dollari shot vediamo se sarà all'altezza della bandiera ci sono anche tutte le brioche il cinnamon almond croissant non sono da bello aspetto però magari per loro vanno anche bene non penso di prenderlo prenderò soltanto un caffè espresso questi grattacieli non finiscono mai di stupirmi praticamente si confondono con le nuvole in video non si vede ma dal vivo danno questo effetto ragazzi Cafe Illy preso 3 dollari pagato con la money card si è raffreddato subito a me piace caldissimo però ci sta un pochettino di italianità facciamo questa bellissima passeggiata in Central Park stiamo andando all'Historial Museum se non erro abbiamo il ticket per le 14 questa è la fermata delle carrozze con i cavalli beh qui magari all'interno del parco i cavalli sono più tranquilli perché comunque non c'è traffico sono molto molto più rilassati c'è il giro che costa 63 dollari 20 minuti e 25 dollari per 10 minuti più tasse e comunque la la mancia che in America è d'obbligo quindi siate pronti che la mancia è praticamente obbligatoria ho praticamente preso un bastone un treppiedi un tripod della Ulanzi che sto testando in questo viaggio molto comodo vi lascio il link in descrizione poi magari dopo vi faccio qualche foto e è comodo per lo smartphone è veramente abbastanza versatile perché comunque ha un minimo di gambo e sensibile ed è pratico da mettere comunque in il borsetto i carretti dei panini attaccati dietro stiamo costeggiando il perimetro di Central Park per raggiungere il museo e mi sono messo sulla pista ciclabile naturalmente abusivo solo per un attimo questo deve essere un camion della spazzatura con almeno così sembra Liberty Contracting Corporation a me sembra un carro della spazzatura bestione un mac wow tromature super lucide con tutti i bianchi marmitte moleste davvero track Central Park West non so se si vede sullo sfondo che sono degli operai simpatico questo carretto molto molto americano dei gelati ragazzi non so voi ma a me questi scuolabus americani mi danno sempre mi fanno un certo effetto hi veramente molto bello ce n'è uno grande e uno un po' più piccolo mi ero accorto che ce n'è una fila incredibile di scuolabus wow ma ma quanti ce ne sono veramente quantissimi il capolinia è probabile ci sia una scuola vicina fast food vendono veramente di tutto ragazzi qui hanno girato una notte al museo non so se vi ricordate questo salone film che ho visto e stravisto un sacco di volte africano cioè è un paese in questa prima sala del museo ci sono questi grandi elefanti questi grandi mammiferi riproduzioni e poi tutte queste vetrine che fanno vedere tutti gli animali dell'africa nel deserto dai leoni alle giraffe ai bufali e a tanti altri animali africani continuiamo il nostro giro c'è veramente tanta gente pensavo di trovare meno persone ma come vedo è molto molto trafficato c'è ancora l'uso obbligato della mascherina all'interno del museo comunque il realismo che c'è in queste statue con queste ripostruzioni veramente notevole e danno un certo come dire fanno un certo effetto per finire con l'ultima vetrina qui abbiamo le zebbre e le alte giraffe questo teatro hidden big bang theater che oggi è chiuso peccato veramente peccato è un astronave praticamente spiegava il big bang e tante altre cose accadute tantissimi milioni d'anni fa certo che gli americani se ne inventano di situazioni per vendere il loro prodotto sono unici in tutto ogni cosa lo fanno veramente promuovere e vendere in maniera sempre eccellente e naturalmente il merchandising in questi luoghi turistici è d'obbligo veramente la grande bandiera nasa carini la tuta spaziale ce n'è per tutti i gusti il pupazzo riescono a venderti di tutto anche le riproduzioni dei vecchi giornali dell'atterraggio lunare ma veramente questi si inventano di tutto una t-shirt 28 dollari una bilancia fa vedere come sarà il tuo peso sulla luna certo che la natura non finirà mai di stupirci questo è un minerale chiamato stibnite ci sono quasi tanti minerali nel mondo o comunque in questo museo che non riesco a filmare tutto ragazzi questo è un pezzo d'oro della California finalmente siamo usciti dal museo abbiamo fatto circa tre ore abbiamo girato un po' tutti i padiglioni non tutti perché veramente ci è arrivata un pochettino di fame e quindi pensiamo di trovare qualcosa per poter mangiare rimanete sempre connessi wow addirittura si può prendere una barchetta e fare il giro in mezzo al lago di Central Park una tartaruga eccola non so se si vede in video eccola wow avevo visto questo laghetto a dicembre che era quasi ghiacciato di tantissimi anni fa vederlo con questa temperatura questo cielo quelle nuvole e quei grattacieli dietro nel parco è comunque una scena abbastanza bella a me piace qui nel parco si respira un'aria veramente tranquilla serena c'è chi legge chi ha preso appunto la barchetta si fa il giro con gli amici all'interno del lago veramente molto bello sono molto strane queste queste rocce guarda sembrano un po' le rocce delle seicel come come conformazione intendo e c'è tantissima gente che vengono qui a prendere il sole e a rilassarsi cerchiamo di scendere da questa montagnetta veramente grande questo parco e c'è tanto da girare da vedere qui è pieno di scogliattoli papere anetre tartarughe per adesso è questo quello che ho visto quello dovrebbero essere delle anatre piccioni stanno qui abituati a vedere comunque persone che non vanno via anzi si mettono in posa per essere fotografate o riprese e si mettono in posa si mettono in posa e si mettono in posa Passare qua sullo strisci per non far cadere nessuno, per me rimane una bella città, meno di 24 ore a New York per rinnamorarsi di una metropoli, d'altronde ci voleva proprio questa passeggiata sotto questi alberi. Andiamo a stenderci un pochino su questi bei prati. Per il profumo. So che non è salutare, ma uno ogni tanto ci sta. Bellissimo vedere i bambini, cioè i bambini, i ragazzini che si allenano a baseball. Ci sono i ragazzi che si stanno allenando per il baseball. Sono veramente carissimi, hanno tutti la loro divisa. E lì c'è il coach. Sembra un quadro, ragazzi. Con tutte quelle nuvole sembrano pennellate. Tutto pieno di ragazzi. C'è chi legge un libro, chi ascolta la musica, chi gioca a palla, chi si allena al baseball. Veramente una bella situazione. Abbiamo raggiunto il lago più grande di Central Park. È veramente grande e c'è tutto un percorso che lo circoscrive. Tutto il perimetro è praticamente pedonale e ci sono tantissimi runner. Non so in termini di chilometri, ma è veramente tanto. In un attimo ti trovi da questo a questo. A praticamente tutta la city. Ecco qua. Stiamo andando nella stazione delle metropolitane. Ragazzi, se venite per più giorni a New York, vi consiglio di fare agli appositi ATM che ci sono qua, diciamo, queste macchinette elettroniche, la card per sette giorni. Costa 33 dollari e ti dà un'entrata e uscita illimitata dalla metropolitana. Eh eh, ti paremmo. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori. Alla fine ci hanno trovato ragazzi. Ci stanno arrestando. Scherza, naturalmente. Stiamo inseguendo il fuoco. Praticamente abbiamo visto tra i palazzi questa luce del tramonto e stiamo percorrendo tutta la quarantesima strada per raggiungere un po' di acqua perché è da tempo che non vedo il mare. Come sapete, il mio elemento è l'acqua, quindi devo per forza andare a vedere il mare da vicino. Ragazzi, siamo arrivati un po' in ritardo, però comunque il cielo è infuocato. Siamo nella parte tra quarantesima e dodicesima strada. Fantastico, comunque il cielo è fantastico. Adesso abbiamo il semaforo, dobbiamo aspettare che si accenda la luce bianca dove c'è quella manina lì. Ragazzi, siamo arrivati finalmente al molo e questo è il mare new yorkese. Lì c'è un tronco galleggiante. Andiamo a vederlo da vicino. Abbiamo fatto una bella corsa, però ne valza la pena. I colori sono veramente pazzeschi. Mi piace? Sono qui i grattacieli. Quella è la quarantesima e la dodicesima strada. Qui ci sono altri grattacieli, sempre grandi, che ci osservano dall'alto. Ci sono le bici, le city bike. E qui ci sono i ferry boat. Mamma mia che cielo. E' proprio vero, i colori del tramonto sono sempre fantastici. Saranno belli anche quelli dell'alba, però purtroppo non mi trovo mai. Non so come mai non riesco a trovarmi all'alba. Il tramonto riesco a beccarlo quasi sempre. E' proprio un magnetismo. Appena vedo che sta tramontando il sole impazzisco. Corro subito a vederlo, ovunque io sia. Ragazzi, quello che si vede sulla costa, dall'altra parte, è il New Jersey. E questo è il fiume Hudson, Hudson River. Quindi quella lì è tutta New Jersey. Le bandiere americane che sventolano. E con il tramonto anche i colori dei grattacieli stanno cambiando. C'è il cielo bellissimo dietro, guardate. Sembra una cartolina. Stiamo ancora costeggiando Manhattan in direzione sud, sempre con New Jersey da quella parte, e il fiume Hudson. Tra un po' prenderemo qualche strada per entrare all'interno. Ci dirigeremo nella downtown. E quindi il video di oggi termina così. Spero che abbiate trovato di vostro gradimento il contenuto. Continueremo ancora nei prossimi giorni ad avere base a New York. Rimanete connessi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se volete delle info su come abbiamo raggiunto questa destinazione, voli, visti e quant'altro, non esitate a farlo nei commenti. Sarò felice di rispondere, come sempre, a tutti in tempi relativamente rapidi. Ciao ancora e arrivederci. Ragazzi, da un tratto ho visto questa bestia. È veramente... Thank you, the big! Mamma mia, è veramente una bestia. È lungo, interminabile. Arriva all'Empire State Building. Mamma mia, è veramente wow. Anzi, un doppio wow. Ragazzi, continuano le emozioni sempre. Non c'è un attimo di pace qui a New York. Da quando abbiamo messo piede sul terreno statunitense, siamo saliti in fibrillazione. Sempre carichi a mille e la stanchezza riusciamo comunque a sopprimerla. Non abbiamo idea, praticamente, c'è questo palazzo che ha una rientranza in diagonale. È proprio pronto a cedere ai primi venti. Ma fanno cose veramente strane, sono veramente unici in tutto. Mamma mia. Questo qua è quel monumento nuovo. Se non sbaglio sono delle scale, quindi si può salire sopra. Penso che a quest'ora sia chiuso. Comunque ci avviciniamo e eventualmente poi facciamo un salto domani di giorno. Un quartiere del tutto nuovo. Per noi non avevamo mai visitato e visto. Qui c'è una fila di auto della polizia, classica scritta che abbiamo sempre visto in tutti i film New York Police Department. Chiama il cinema, può capirmi molto bene. E da questa parte ci sono tantissimi treni che a questo punto non ho capito bene se questi sono treni di superficie o comunque di metropolitana. Ma sembrano treni di superficie. Il Vessel. Sono tantissimi piani. Abbiamo preso questo ponte elevato. E questa è la famosa, non mi ricordo più il nome, non ricordo bene, ma se non sbaglio questa qua è la vecchia metropolitana di superficie. Magari scrivetelo nei commenti o comunque ve lo scriverò io. Ma qui vedo le vecchie rotaie appunto. Eccole qua. Sono ben visibili le vecchie rotaie della metropolitana di superficie. Che hanno fatto a parco con panchine, alberi e piante di vario tipo. L'illuminazione è anche decisamente bella. E sopra ci sono sempre loro a vigilare. Stiamo proprio camminando sui vecchi binari. Vedi un servizio in tv che parlava proprio di questa linea che hanno convertito in questo modo. Veramente bravi. Molto molto bravi. Ragazzi quello che vedete lì in fondo è l'Empire State Building. Uno dei grattacieli più alti di Manhattan. E comunque è stato per diversi anni il grattacielo più alto del mondo. Poi è stato superato da tantissimi altri però ha il suo fascino. E' il famoso palazzo dove hanno girato King Kong più volte. Qui abbiamo il Madison Square Garden che ho visto sempre in televisione. Madonna. Sembra di essere a un parco giochi praticamente. Quindi Madison Square Garden. E lì abbiamo il bestione. Il grande Empire State Building. Praticamente a quest'ora mentre tutti stanno fuori per cenare o comunque per passeggiare. Gli operai stanno lavorando. La città che non dorme mai. Operai a lavoro. Tutta la movita. Madison Square. Ma strano. Operai che lavorano incessantemente. E non solo qui. Stanno lavorando anche sui grattacieli. Abbiamo visto che ci sono i ponteggi, l'illuminazione e le persone stanno lavorando. Veramente notevole. Devo sbrigarmi. Siamo venuti da Subway sulla nona strada per ritirare un pacchetto. C'è un panino che è ordinato a Siria dalla camera. Siamo venuti qui da Subway. Abbiamo ritirato il panino di Siria. Stiamo avvicinando a questa pizzeria gestita da messicani. Prendiamo un trancetto di pizza. Abbiamo ordinato e messo a scaldare due tranci di margherita. Alla fine siamo in una piccola pizzeria gestita da messicani. Abbiamo ordinato due tranci di pizza margherita. Ecco il nostro trancetto. Magari poco poco. Sarà veramente piccante. Metti un po' di origano. Qui fuori sta succedendo un casino, ragazzi. Ma è proprio vicino al nostro hotel. E da New York è un attimo arrivare in Messico. È una coca per digerire. Nel frattempo abbiamo ordinato un'altra pizza. Eccola qua con salame. Tutto bene. Questo mini-truck vende marijuana. Tranquillamente. Medical. Non vi dico gli odori di verdura cotta. E che fai? Non concludi la giornata con un salto a Times Square. Che è praticamente dietro al nostro hotel. Qua ci sono i carretti. Ma vorrei evitare di passare in mezzo al fumo. Magari passo da dietro. Qua ci sono i carretti. Qua ci sono i carretti. Qua ci sono i carretti. e abbiamo The Rock che ci saluta e inizia e inizia e inizia e inizia e inizia No, 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 no. addirittura c'è anche la polizia a cavallo un po' è un po' è un po' è un po' è un po' Grazie a tutti. Ragazzi, dopo aver fatto anche la centrifuga finale, stiamo tornando. Abbiamo fatto un salto appunto a Times Square per vederla anche di sera. Era un macello. Il suo splendore. Era davvero un macello in tutto il suo splendore. Sì, in effetti dovete sapere ragazzi che non è il primo topo, anzi un big mouse che vediamo qui a Manhattan. La spazzatura viene raggruppata agli angoli o comunque nei contenitori, come quella lì, quella che vedete lì in fondo. E naturalmente i topi vengono a fare la loro scorpacciata. E quindi il video di oggi termina così. Spero che abbiate trovato di vostro credimento il contenuto. Continueremo ancora nei prossimi giorni ad avere base a New York. Rimanete connessi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se volete delle info su come abbiamo raggiunto questa destinazione, voli, visti e quant'altro, non esitate a farlo nei commenti. Sarò felice di rispondere, come sempre, a tutti. Ciao ancora e arrivederci. Buongiorno, questa è la sala del breakfast. Qui abbiamo i succhi, a questa parte ci sono le uova scrambled con tutte le salsine. Qui abbiamo le salsicce, le patate. Allora poi c'è il burro d'arachidi, marmellate varie, burro, zucchero, porridge. Lì ci sono le uova sode, ci sono dei muffin, cereali, pane che si può prendere e mettere nel tostapane. Il latte. Qui abbiamo da parte frutta con yogurt fresco, acqua, tutti i piatti e posate. Stamattina ho pensato di fare una colazione abbastanza proteica, leggera, con pochi carboidrati. Per adesso, questo è quello che ha preso Siria. Insieme con i soldi miscoli. E naturalmente prendo un caffè a secchio. Buongiorno. Siamo ancora a New York, abbiamo fatto colazione e siamo usciti per la city. Giornata nuvolosa, si sta bene, la temperatura è veramente bella. Si inizia già con le classiche sirene della polizia. Siamo entrati in un centro commerciale, nel centro di Manhattan. Magari prendiamo un caffè da Starbucks. Dovrebbero fare l'espresso, se non erro. Sorry, espresso small? One. Thank you. Caffè espresso. Avevo una difficoltà a leggere il mio nome tipicamente del sud. Mi piace, ciao. Abbiamo tolto il classico coperchio perché non mi piace bere dal supporto loro. Cioè, ma non so se si vede lì in fondo, cioè, dove arriva. Stiamo entrando a vedere questo negozio che vende tipicamente pane, quindi è una panetteria. Ah, le barrette energetiche. Ciambelle, cinnamon. Ci sono anche le chocolate. Croissant, blueberry muffin, chip muffin, cinnamon. Sono tutte veramente molto invitanti. Specie questa qua con le mandorle sopra. Tantissime ciambelle. Asiago cheese bagel. Addirittura. Con il formaggio, ma se ne inventano. Tutti i colori del breakfast. Limonate. Fragola. Water. Vitamine water. Limonata. Coca-Cola. Succhi. Tutte le insalate belle pronte pure. Questa qua è con il pollo e l'asiago. Tantissime insalate. Mediterranean salad. Napa chicken. Molto comodo per il pranzo e per la colazione. Ora mostriamo patatine e popcorno come se non ci fossero domani. Ce ne sono davvero di tutti i gusti. Mamma mia. Tantissimi gusti. Uno più bello dell'altro. E naturalmente i salamini. Carne essiccata. Eccola qua. Arachi di vari. Frutta secca. Un dollaro. Non male. Vino, rizzo e biscotti. Con i nomi europei. Zurich, Milano, Gingermain. Sta solito. I classici Oreo non mancano da nessuna parte. Però ci sono questi che non avevo mai visto sinceramente. Basta. Ci sono tantissimi gusti che non avevo mai visto. Questi mi ricordano tanto le prime pubblicità americane che arrivavano in Italia negli anni Ottanta. Snack. Interi corridoi pieni di snack. Eh, abbiamo anche l'indoor. E di toblerone. Caramelle. Come se non ci fosse un domani. Semi di girasole. Se non sbaglio. Patatine. Per tutti i gusti. A chi non piacciono i cirios. Corridoi interi. Questo qua per la guenda. La mia nipotina. Tutto questo reparto, praticamente, è zona per i denti. Quindi spazzolini. Quindi spazzolini. In genere. Dentale. Un intero reparto dedicato alle vitamine. Ecco, queste dovrebbero essere... Sì, tutte capsule. Calcio. Ah, questo è interessante. Bidotici. Certo, il costo è 16,99. Ma quante pastiglie ci sono qua? Sto andando bene le Bidotici che sto comprando in Italia. Qui abbiamo la vitamina C. Vediamo se c'è il magnesio. Eccola qua. Magnesio. Questo sempre in pastiglia, 20 euro. Eh, non male. Ho Bidotici a quintali. Vitamina C di quest'altra azienda. Bidotici. Questa... Mamma mia. Addirittura. Queste sono tipo caramelle. Melatonine. Barrette energetiche. Questa è bella la vaniglia. Che questa non è male. 3,29 dollari. Per una barretta. Vitamina. Questa deve essere in polvere. Sì. Anche questa qua è in polvere. Uno stand dedicato alle caramelle. Tricola. Potevano esserci le misure classiche. Ma qui le bottiglie sono... Da quando... Boh. Non si capisce. In litri dovrebbero essere... Tre litri. Due litri. E due litri. Tutte. Sprite due litri. Fanta. Da due litri. Anche la Sheps. Due litri. Questa adesso è la 7 up di una volta. Pepsi. E poi ci sono anche le lattine piccole. Non per forza bisogna prendere le misure grandi. Però usano queste bottiglie. Bottiglione diciamo. Molto grandi. Qui le insalate costano di meno. 6 dollari. Un'insalata già composta. Beh. Queste qua. Non penso di comprarle mai. C'è anche questa. Grig. 5 dollari. E 99. Penso di andare su una di queste qua. Magari a pranzo veniamo a prendere una di queste. 6 dollari non è male. Mi intrigano tantissimo queste lattine di latte. C'erano anche quelle big. Più grandi. Non bevo latte però mi piace tantissimo. Veramente la scelta è bariagata. Anche questi succhi già pronti. Ah. Questo qua matcha mi piace. Pagavo. Queste vengono. 3 dollari e 99. Carini. Biscotti. Mamma mia. Cioè. Cioè questi qua in Italia sono dei stick. E qua. Non so se vi rendete conto. Sono dei prezel giganti. Il bidoncino non riesco neanche a prenderlo con una mano praticamente. Wow. Questi sempre in Italia che sono tipo minuscoli. Ma sono giganti. Io vado matto di questi. Specie quando guardo la tv. Però sono veramente piccolini. Comunque come al solito tutto è sempre super mega esagerato. E ce ne sono tanti. Mamma mia. L'acco figgi. Eccola qua. Sempre piaciuta questa bottiglia. Ha un certo effetto. Hanno quella. Quella etichetta dietro. Che praticamente dà questo effetto tridimensionale. Ah. C'è anche la grande. Eccola qua. Così sparisce. Così appare. Beh. Una di queste Red Bull. Così spacchiamo Manhattan in due. In un attimo. Questi invece sono un pochettino più salutari. Zucco d'arancia. Magari quelli ai mirtilli. Non sono costose comunque. Un dollaro e 99. Magari ne prendiamo una per assaggiarla. Qui stanno preparando qualcosa di abbastanza unto. Dice del bacon. E qui uova. Coriandolo. E quelle o tacchino. Oppure pollo. Può essere le tortillas. Sono sempre simpatici. Siamo sempre a Times Square. Naturalmente tutte le aree sono sorvegliate da telecamere della polizia di New York. Fate molta attenzione. Perché l'attraversamento è sempre un mistero. Praticamente vabbè. Oltre ad aspettare comunque il semaforo. Fate attenzione che ci sono le bici. I monopattini. Che sono silenziosi. E a volte ci sono anche tantissime auto elettriche che non si riescono neanche a sentire. I led sempre accesi a manetta. Grazie. Passeggiata sotto questi cantieri è d'obbligo qui a New York. Da questi tombini arriva un'area abbastanza fetente. Allora adesso siamo sulla settima strada. Sempre la quarantunesima è questa e questa è la settima strada. Noi stiamo cercando il footlocker. La sfera sopra. Si sente il carretto che vende caramelle ai bambini. E lecca lecca. Bello questo. Magari camperizzare questo furgone non sarebbe proprio male. Strano vedere che ci sono tantissime persone che parlano da sole. E non hanno le airpods. E hanno sicuramente qualche problema. Left weight. Eccolo qua. Footlocker. Era quello che stavamo cercando. Andiamo a riprendere un paio di scarpe più comode. Wow. Fortissimi. Boxer di Miami Heat. Wow. Dai. Sei vuoi? Wow. Bulls. Dai questa fa sempre un certo effetto alla divisa dei Lakers. I Los Angeles Lakers. Wow. Già a toccare la qualità. Sono veramente veramente belli. Poi ho visto comunque i Lakers giocare a Los Angeles. allo Staples Center. Ora ha cambiato nome. Non ricordo più come si chiami. Abbiamo visto i Lakers giocare con i Cleveland. Cioè. Non so se vi rendete conto quant'è questa ciabatta. Cioè è enorme praticamente. Queste scarpe sono abbastanza moleste. Cioè. Crocs di tutti i colori. i più ne appena metta. Ma queste qua. Non le avevamo mai viste. Crocs con il peluche dentro. Siamo sempre a Times Square New York. E ci sono tanti piani. Non è che... wow. Abbiamo una vista abbastanza ampia da qui sopra ragazzi. Sull'insegna H&M, la famosa insegna che si vede in tantissime foto che riportano Times Square e New York in generale. Quindi secondo me su quelle griglie metalliche andranno installati dei LED wall C'è questo mega LED wall, sì a colpo d'occhio mi sembra un 10x8, tipo una quarantina di metri quadrati Questo è l'ultimo piano, sempre del Lecce in Dem di Times Square Per vedere se c'è qualche finestra, wow, molto cara ipica Allora, cerchiamo la strada dell'albergo Lì c'è una bella Ferrari Stiamo tornando all'albergo un attimino Dobbiamo fare giusto un salto, un breve check E poi vogliamo tentare di andare a trovare dei pugliesi a New York Quindi non sappiamo se ci riusciremo Comunque rimanete ancora sul video Perché se riusciamo nel nostro intento è una cosa molto bella Ma più che bella, buona Queste fumarole che ci sono in tutto New York Che sgorgano dal sottosuolo I garretti sempre presenti, ommini presenti Vendono tutte queste cose profumate a secondo dei gusti Abbiamo circa 9 secondi per attraversare questa grande strada Sulla settima Colgo l'occasione per salutare il carissimo Piero Armentide Il mio viaggio a New York E i suoi consigli su questa bellissima città di New York Che lui ama tanto e conosce molto molto bene Quindi saluto e ringrazio di cuore il carissimo Piero Ciao Piero Abbiamo lasciato Manhattan E ci siamo diretti nel quartiere di Brooklyn Stiamo andando a trovare un ristorantino Nella speranza di provarlo aperto Almeno le indicazioni dicono che sia aperto Questa mascherina Che comunque qui sotto c'è un odore molto poster E poi comunque siamo in metropolitana Con tantissime persone e tantissima gente Per sicurezza abbiamo preferito usare le mascherine in metropolitana Anche se non sono più obbligatorie Siamo nella stazione metropolitana di Sherman Hall Siamo arrivati nel quartiere di Brooklyn Per fortuna non sta piovendo al momento Portava pioggia Ma sembra che il clima attualmente sia dalla nostra parte Devo dire che già qui le prime impressioni cambiano tantissimo Sembra molto Nord Europa Molto inglese Molto Amsterdam Come quartiere Vi faccio vedere un po' il paesaggio Mi piace fare questi walking tour nelle città o comunque nei luoghi Perché poi rivedendo questi video a distanza di tempo Mi fanno rivivere l'atmosfera che sto vivendo in questo momento E per me piace Mi piace perché comunque congela il tempo E mi fa ricordare appunto il momento È come rivivere la vacanza più volte Quindi non rimane soltanto nella mente ma così La rivivo più volte E quello è il termine corretto Non ho mai visto queste scalette Le corze Quando scappano con la polizia Uno si arrampica Salta da una parte all'altra Sembra una strada molto turistica Piena di locali, bar, caffè Tutte queste case tipiche New Yorkesi Che siamo abituati a vedere Nei film Manhattan Food Care Ci ha incuriosito questa vetrina Con queste mega cheesecake Che bisogna avere due bocche Praticamente per aprire C'è anche quella all'oreo Alle fragole Wow Ah ci sono anche i muffin Con quella crema su Qui abbiamo la varietà di torte Giganti Questi quartieri sono comunque pienissimi di verde Sempre quelle famose scalette Che conosciamo tutti nei soliti film Plata Zucchine Asparagi Broccoli Avocado E c'è tutta la frutta Uguale alla nostra Ah Il mango Mexica mango E la Stella Artois Wow Quanto mi piacciono questi locali Wow Ovvero bello Bella Questi tavolini fuori in legno Dumbo Dumbo Market Eccolo qua Wow Quanta roba Non c'entriamo qua Andiamo Una missione da compiere Stiamo andando a trovare Una cosa che non posso spoilerarvi adesso Wow Guardate che camion Ragazzi Ah Qui abbiamo Un Un Furgone di Amazon Della Dodge Lo Porto Rico Wow Con la bandiera di Porto Rico Speriamo che sia aperto Eccolo qua Panzerotti Bites Era da anni Ce ne avevamo promessi di passare da questo locale Se non erro Sono due italiani Che si sono trasferiti qui a New York Per lavoro E sono una coppia Marito e moglie Entriamo per assaggiare Il Panzerotto tipico pugliese Original Apulian Food Praticamente qui al lato sinistra C'è il laboratorio Dove vengono prodotti e partoriti Meglio dire i Panzerotti Qui c'è la cassa La macchinetta tipica italiana del caffè E qui ci sono tavolini Per poter gustare i loro Panzerotti Siamo nel cuore di Brooklyn C'è anche l'angolino Con tutti i prodotti tipici italiani Dalla pasta molisana Ai tarallini pugliesi E altri prodotti che magari Non sono proprio facili da reverire qui a New York Grazie Un minuto che fa l'anno Ok Buona giornata Ti ringrazio Allora questo è il Panzerotto Barese Naturalmente Bollente Quindi bisogna fare molta attenzione Prima di Metterci su Le mani Ma soprattutto La lingua Provo ad avvicinarmi Anche se Vedo già che non ho qualche Trucia Anzi scotta Vagamente tanto Finalmente Un po' di sapori Autentici Ragazzi c'è uno scogliettolino Che mangia tarallini pugliesi Ne va ghiotto? Sì Grazie Abbiamo preso anche La versione Dolce del Panzerotto Pan di stelle Lo assaggiamo subito E finiamo in bellezza Con un buon Caffè italiano Offerto dai proprietari Ragazzi Abbiamo dovuto per forza Ordinare Il Panzerotto Anche in versione Dolce Ragazzi Se venite a New York Dovete per forza Passare da Panzerotti Bites Si trova a Brooklyn Per assaggiare I Panzerotti Dai pugliesi Fatti con Farina di semola Sono veramente leggeri E fatti bene Veramente Pacevole Cioè Sembra proprio Di camminare Su un set cinematografico Addirittura Mamma Capri Sarà sicuramente Un ristorante Di pesce italiano Ma così sembra Qua c'è il menù Quindi Carpaccio di polpo 22 dollari C'è l'acacia e pepe 20 dollari Scialatelli allo scoglio La pasta Eh non ve li leggo tutti Gnocchi alla sorrentina Wow Gnocchi alla sorrentina 19 dollari Beh Siamo A Brooklyn Ragazzi Guardate quelle Quelle scalette Mi fanno impazzire Con quei balconi Mi ricordano Tutti gli scorribbande Che fanno Quando si inseguono Saltano Facile incontrare Questi furgoni Della UPS Cioè non è che non hanno I sportelli I sportelli sono scorrevoli Probabilmente da lì Tiri la maniglia Per una comodità E rapidità Di consegna Dei pacchi Hanno diciamo Questa comoda Apertura E chiusura Tutta gente Sempre molto Simpatica E contenta Anche di essere Filmati O fotografati Devi anche Che so Tipo Lo spazzino Quello che sta raccogliendo I cestini Comunque sono Orgogliosi Di quello che stanno Facendo O che lo stanno Facendo per il loro Paese Questa cosa È quello che Che provo Magari non sarà così Però è quello che sento Ragazzi Sembra Di camminare Sul set Forse mi sto ripetendo Più volte Però È proprio la sensazione Di strade Così Alberate Veramente Bello Nice E lì sullo sfondo Dominano I palazzi Di Manhattan Siamo Sempre nel quartiere Di Brooklyn Queste sono Le classiche Casette Con la scala Che vediamo Sempre Nei film Sono veramente Belline E caratteristiche Siamo Sempre a Brooklyn Questa sembra Almeno Così sembra Una chiesa Si discute La mappa Bello Siondarsi Cioè Immergersi Nella vita Quotidiana Quindi per un attimo Così Trovarsi Nella vita New Yorkese Assaggiare come Come un locale Diciamo come uno Che abita alla fine Qui Sento Una Delle musiche In quella direzione Probabile ci sia Una festa Almeno Così sembra Da lontano Leggo Tacos Open Questo è un problema Queste sorprese Sono sempre Gratite A Vincenzo C'è Un track Tacos Casa Amigos Wow Quindi è una festa Di quartiere Che va per bambini In effetti Ci sono tutti I gonfiabili Che stanno Animando Roba da brividi Ragazzi Ragazzi Siamo fiondati In questa Festa Per bambini Non ho parole Per descrivere L'emozione Brividi Solo Brividi Mamma mia Non so se si vede Ho la pelle d'oca Ancora Ovviamente Siamo Siamo Imbucati In modo Abusivo Ma Non è stato Un problema Per nessuno Tutti Cordiali Sorridenti Nice Ha sventolato Per un attimo Per me Nel frattempo La perturbazione Che ho visto Questa mattina Nell'app Ilmedio.it Salutiamo Giancarlo De ilmedio.it Ciao Giancarlo Grazie sempre Per i tuoi Preziosi Consigli In effetti Era come Dicevi te La perturbazione Sta arrivando E qui Quando piove Piove davvero Siamo solo all'inizio E non abbiamo Nulla Per proteggerci Ma penso che Andremo In underground In metropolitana Non so se si vede Nel video Ma sta piovigginando Qui abbiamo Una bella Maserati Targata New York Qui c'è il furgoncino Delle consegne Pacchi Amazon Wow Fate sempre attenzione Perché le bici Corrono Tantissimo Ragazzi Non so se vedete In video Che ci sono I gatti Che stanno Dormendo Praticamente È un Brooklyn Cat Café Ragazzi Siamo arrivati Alla promenade Di Brooklyn Guardate qua Anche per terra Fanno Queste mattonelle Sembra bronzo E qui c'è Una balaustra Che guarda Su tutta Manhattan Quello lì in fondo È il ponte di Brooklyn Si vede anche L'Empire In lontananza Si ha una vista Veramente Notevole Da qui Lì in fondo Quella È la statua Della libertà E da qui Sembra piccolina Ma vi posso garantire Che è veramente alta È veramente molto alta Comunque Nonostante la pioggia Siamo venuti A vedere Questo Spettacolo Non ero mai venuto Da questa parte Di New York Ed è veramente Da qui riesci A vedere Molto bene Tutti i palazzi E i grattacieli Di New York Ragazzi Se il video Vi sta piacendo Vi invito A lasciare Adesso In questo momento Un like E scrivete nei commenti Se volete Informazioni Su come raggiungere New York O altre Informazioni Di vario tipo Sarò felice Di rispondere Come sempre Colgo l'occasione Per invitarvi Anche A iscrivervi Al canale E attivare La campanella Questo check Di attivare La campanella Serve Per poter Ricevere Tutte le notifiche Sui prossimi video Che andrò a pubblicare Sia su New York Sia su altre Destinazioni Che avrò La fortuna Di visitare Se vi sta piacendo Questo contenuto Fatemelo sapere Nei commenti Grazie ancora E buona visione Stiamo andando A trovare Un punto Metro Per raggiungere Da Brooklyn Manhattan Nooo Non c'è la cascata Abbondante Nulla da fare Proviamo All'altra fontanina Che troveremo Sicuramente Più avanti In Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Siamo di nuovo ritornati a Manhattan, siamo sulla 41esima e dobbiamo sbrigarci ad attraversare 3 secondi, 1, 1 secondo, carretti, ci passano il profumo www.mesmerism.info A noi fa tanto strano vedere appunto la macchina della polizia lì e questo carretto che vende cannabis, da quella parte c'è sempre Times Square, ormai queste strade le stiamo praticamente consumando per quante volte ci stiamo passando e c'è tantissima gente metropolitana questa è la metropolitana di Times Square sulla 42esima pienissima di gente naturalmente oggi essendo sabato pieno 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 davvero in tutti i sensi stiamo raggiungendo l'Empire State Building, rimanete connessi e continuate a guardare il video perché ci sarà il sorpresone ecco l'Empire State Building, questa è l'entrata e la hall, benvenitos, wow qui c'è un mosaico veramente bello, sono venuto nel 2010 e siamo saliti sull'Empire però era inverno e faceva tantissimo freddo, qui c'è un plastico, una bella riproduzione dell'Empire State Building ragazzi abbiamo superato tutti i controlli del caso, anzi no, qua ci perlustrano tutto però le prime fasi le abbiamo fatte, ok è tipo un aeroporto, controlli superati, c'è i metal detector ci sono delle riproduzioni di come hanno costruito edificato l'Empire State Building delle statue realizzate in bronzo maggio 1931 questi sono i controlli degli ascensori dell'Empire State Building wow, ho riportato alcune copertine dei film che hanno girato sull'Empire State Building allora qui abbiamo cinque ascensori su un lato e cinque sull'altro che portano su, la signorina ha detto di aspettare qui perché comunque la fila va distribuita volta per volta in base alla capienza dei vari ascensori guardate come sale su, dagli orecchi tappate 75, 77 ma non si sente nulla 80 wow siamo all'ottantesimo piano dell'Empire State Building siamo nell'atrio dell'ottantesimo piano wow, la vista al tramonto adesso siamo ancora alla finestra dell'atrio, non siamo ancora uscini fuori questa è in direzione sud quindi lì in fondo c'è il World Trade Center and this is not the observatory, the observatory is upstairs adesso siamo all'ottantaseisimo piano prima eravamo all'ottantesimo thank you da qui si esce fuori siamo all'aperto la bandiera, l'altra volta quando siamo saliti qui sopra c'erano meno 3 gradi faceva un freddo della madonna ragazzi freddo, cane avevamo cappello, guanti e sciarpa scusate magari l'audio sarà un po' disturbato dal vento quello in fondo è il World Trade Center che sta facendo un riflesso fortissimo del sole naturalmente ci sono tutte queste griglie in acciaio per sicurezza sono abbastanza forti quella sopra è l'antenna altissima ragazzi questo è l'ottantaseisimo piano e quello è il World Trade Center quello che sta facendo è il riflesso giù abbiamo tutta la manata quella è la direzione sud facciamo un giro di perlustrazione ragazzi il tramonto da qui sopra è veramente unico chiaramente l'iPhone ha sempre questa difficoltà a riprendere un controsole che già per una reflex è faticoso con tutte le sue lenti in questo caso c'è sempre quel pallino che io cerco di nascondere dietro al sole guardate quanta gente è salita a quest'ora al tramonto sono venuti tutti qua a quest'ora perché è una delle ore più belle almeno per quanto mi riguarda continuiamo il giro con l'ostruzione grattacielo di Age sono in giro c'è veramente tantissima gente guardate un po' sotto ragazzi mamma mia sono dei colori mamma mia non faccio vedere da sotto questo è un video selfie ah non è formato cinema vabbè comunque è sempre bello così siamo belli illuminati guarda che colori guarda che colori sta facendo tanti selfie e lì c'è il sole quanti luci strane guardate sotto cosa c'è nice questo è che vediamo giù è la quinta strada e come fai a riconoscerla ve lo spiego subito questa è la quinta strada e la riconosco perché praticamente lì in fondo c'è la chiesa di San Patrick non so se riuscite a vederla è proprio lì in fondo adesso vi faccio una zoomata sulla chiesa non vorrei sbagliarmi magari correggetemi nei commenti ragazzi quello lì in fondo è il Chrysler Building veramente vale la pena salire sull'Empire State Building per me sì è la seconda volta che salgo e mi è piaciuto tantissimo probabilmente ci sono i cannacchiali che fanno vedere New York se mi lasciano riprendere non è facile perché comunque a quest'ora c'è tantissima gente purtroppo è una delle ore più belle ragazzi beccare anche l'arcobaleno non è facile però siamo fortunati è un segno del destino quello lì che vedete in fondo è un arcobaleno ebbene sì andiamo in direzione sole perché comunque il cielo si sta infuocando pian piano si accendono tutte le luci su Manhattan alla cara del sole prende tutto un altro stile diciamo il panorama un pochino ma ragazzi ragazzi veramente è una bella esperienza da fare sicuramente, salire all'Empire provate a salire al tramonto in modo da beccare tutte le luci giuste, almeno se uno ama la fotografia, poi aspettando appunto il tramonto si passa alla Blue Hour che veramente merita tantissimo. Ragazzi con queste luci è diventato tutto più magico in fondo tutte quelle luci che vedete è praticamente la piazza di Times Square con tutti i suoi led che sta lampeggiando. Da questa parte abbiamo il DH e il Chrysler Building, faccio una bella panoramica con le luci dedicata a voi. In questo momento ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale e se apprezzate questi contenuti fatemelo sapere magari nei commenti e lasciate un bel like. Abbiamo superato da poco i 2.500 iscritti, contiamo di arrivare, anzi speriamo di arrivare quanto prima a 3.000 che è sempre un bel traguardo. Grazie ancora ragazzi. Lasciamo questa bellissima location, questo magico tramonto su New York. Sta iniziando a fare un po' di freschetto e anche un po' di fame, quindi andiamo a cercare qualcosa per cenare. Noi stiamo andando via ma comunque ci sono ancora gente che sta entrando e facendo la fila. Ragazzi abbiamo messo il timer, siamo partiti dall'ottantesimo piano e vediamo quanto tempo ci impiega l'ascensore dell'Empire State Building ad arrivare fino al piano 0. Wow, siamo a 20 secondi, 21 secondi. Sta scendendo oltre l'infinito. 40 secondi. 48. Dopo aver fatto il giro dell'Empire ti puoi comprare tutti gli Empire del mondo. Sono abbastanza grandi, vediamo se c'è il prezzo. 25 dollari per questa misura e poi vanno man mano a salire. Beh, è un bel oggetto comunque. Questo è pesante, questo non ce lo passano neanche in aeroporto. E ce ne stanno veramente tante cose. Tutto a tema Empire State Building, naturalmente. In questo sono 11 americani. T-shirt, cappellini, tazze da tè, da latte, il King Kong. La balla con la neve. Quante se ne inventano ragazzi. Ed è sconfinato, non è che è piccolo. Anzi, è veramente grande. Ma questa filpa non è male. Qui è il reparto magnesi. Altre t-shirt, portechiavi con i nomi. E ce n'è stata davvero tanta roba. Addirittura ti vendono anche le gommose, le caramelle gommose. Tutto, tutto. Trasformano tutto in business. Caramelle, cioccolatini. È importante che ci sia l'immagine dell'Empire City Building. Eccole qui. Anche le borracce d'acqua, cioccolatini. Vabbè, almeno queste bibite le hanno lasciate in maniera naturale. Continuano i magneti di ogni tipo. E questo è un percorso obbligato. Cioè tu uscendo dall'Empire devi per forza passare da tutti questi souvenir. Vediamo. Eccola. Qui abbiamo la fontanella funzionante, per fortuna. Il corridoio d'uscita. Pavimento veramente bellissimo. A me è piaciuto da tanto. Qui ci sono le scale mobili. Tutto in marmo. Tutto fatto veramente bene. Tutto pulito, ordinato. Ci sono moltissimi ragazzi e ragazze che lavorano alla gestione appunto di tutto il palazzo. E ti guidano comunque in tutto il percorso. Anche se hai bisogno da Juro e altro. Praticamente fuori dalle paie di sette bibite che ci sono tutti questi ragazzi con questa specie di tuk tuk che ti chiamano e vogliono venderti appunto servizio tax. Con questa musica a palla. Ma poi tra l'altro a New York non c'erano. Non so come mai abbiano pensato di dare queste licenze anche a... Cioè non bastava già tutto quello che c'era a New York. Ma hanno anche aggiunto questa specie di tuk tuk thailandesi. Questi hanno messo dei dissuosori. Siamo sulla 50 Avenue. E quello è ancora l'Empire State Building. Per non dimenticare. E abbiamo ordinato un cheeseburger a 9 dollari e un chicken kebab a 6 dollari. Vediamo di assaggiare questi prodotti. Siamo a due passi da Times Square. Ragazzi stiamo mangiando un hamburger americano a due passi da Times Square. Classico panino. Unto. Con cetriolini, insalata e qualche salsina che ha voluto aggiungere lui. Chicken kebab. Chicken kebab è costato. Che è nella sua pancina. Siamo a due passi da Times Square. Cosa chiedere di più. Abbiamo anche un tavolino privato e delle sedie in ferro battuta. Ciao ragazzi. Anche oggi abbiamo dato tantissimo. Stiamo rientrando in hotel. Siamo veramente sfiniti. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare magari un bel like. Noi ci vediamo domani. Ciao. Allora il nostro piano è il venticinquesimo. Non è come l'Empire però si difende bene. Buongiorno. Questo è un altro giorno a New York. Oggi il tempo è decisamente un po' diverso dagli altri giorni. È un po' nuvolo, ventilato e più fresco. Devo dire che lo preferisco. Ed è così che mi immagino New York. Con le nuvole. È sempre comunque bello. Oggi vi porto sul Pullman Top View, sit-in di New York. Quindi questi sono i classici Pullman turistici che ti fanno vedere tutti i punti di maggiore attrazione della città. Forniscono le cuffiette e vista la giornata in dotazione anche la mantellina. Giustamente la mappa. Diciamo che questo tipo di Pullman io lo preferisco. L'ho preso in quasi tutte le città del mondo. Ed è bello perché ti fa comunque uno spaccato di tutta la città, di tutti i punti di maggiore interesse, senza perderti quasi nulla. Poi chiaramente non si riesce quasi mai a farli tutti, però a me piacciono. Anzi, li consiglio. Ecco, Times Square nella sua veste originale, cioè con la pioggia tipica new yorkese, anche se siamo a giugno. Qui all'angolo vendono pizza a 99 centesimi di dollaro. Giorgio, Giorgio. Ragazzi, questa è la parte posteriore del Flat Iron e in ristrutturazione su quasi tutti gli angoli. Harry Potter House. Questo è il quartiere di Chinatown. Quella lì in fondo è Brooklyn. Lì c'è il World Trade Center praticamente immerso tra le nuvole di oggi. Lì sorgevano le torri gemelle. Qua ce n'era una, l'altra in fondo. Quindi il nuovo memorial. Adesso ci sono delle cascate e intorno a tutti i nomi delle persone che hanno purtroppo perso la vita in quel tragico 11 settembre. Comunque andremo a vedere per bene da vicino. Allora, questa è l'highline che la stiamo costeggiando. È l'antica linea ferroviaria che è stata convertita in parco di superficie. E sopra ci sono tutti questi mega grattacieli. Siamo nella zona di Hudson Yard, se non erro. Ed ecco l'highline di giorno. Qui non si può fumare, no bici, no pets, no skateboard, skates, no drink, addirittura. Non si possono bere alcolici. Ma i cani si è tenuti al guinzaglio, comunque controllati e non vedo il perché non possano tranquillamente passeggiare qui. Bella. Piena di panchine e la sera è illuminata con tantissimi led che non si vedono. Sono molto nascosti di giorno. Sopra c'è tutta questa roba qua. Praticamente tutto questo blocco è su delle ruote metalliche che scorrono e vanno a incastrarsi lì. C'è una parte di palazzo scorre, questa specie di forma di mucca scorre per fare ombra o per fare non so cosa. Magari se qualcuno lo sa lo può anche indicare nei commenti. Fa parte tutto questo complesso di questo grande grattacielo. E questa cosa scorre con queste mega ruote che adesso mi avvicino e ve le faccio vedere da vicino. Le faccio vedere meglio. Eccole. Cioè queste ruote scorrono su questi binari. Ma questi appunto pensano di giocare con i Lego. Ma sono davvero unici in tutto. Praticamente quello è il DH. Pensiamo di salire domani o dopodomani. È praticamente il punto panoramico più alto di tutta Manhattan. E hanno praticamente costruito una pensilina a sbalzo che ti fa vedere sotto. E ti fa venire le vertigi come si deve. Qui abbiamo il Vessel. Il plurichiacchierato e contestato. Una delle ultime attrazioni create a New York. Purtroppo ci sono state quattro episodi di suicidio. E quindi hanno pensato più volte anche di abbattere questa attrazione, questa scultura che alla fine nasce come punto panoramico. Strana come cosa. Queste sono le grandi ruote che dovrebbero praticamente spostare tutta questa quest'area. Magari poi vado a documentarmi. Molto belle. Tantissime panchine, tantissimo verde. Qui si vedono le linee ferroviarie, le vecchie rotaglie dei treni. Lodevole questa conversione. Si intravedono ogni tanto le rotaglie. Molto frequentata. Piena di gente. Ci sono anche i box delle chiamate d'emergenza per mettersi direttamente in contatto con la polizia. Tutto intorno ci sono tantissimi appartamenti di lusso e uffici. Beh, qualche pianta di figo non sarebbe male. Ogni tanto ne raccogli una e mangi albicocca, anche mela. Architetture veramente strane. Guardate come hanno camuffato le rotaglie in questi grandi blocchi di cemento. C'è tutto questo verde, panche per sedersi, grandi murales e gli appartamenti di lusso. Questi sono gli appartamenti di lusso a Manhattan. Lì c'è un bell'ufficio con una bella vista luminosa. Non so se si vede in video, ma ovviamente è lì. C'è un ordine maniacale e una polizia a dir poco eccellente. Abbiamo percorso tutta la linea, la High Line. È circa un miglio e mezzo. Non è tantissimo. Però comunque adesso ci sentiamo un pochettino di fame e di caldo. Quindi togliamo la felpa e troviamo qualcosa o qualche locale dove mangiare. la direzione è il Chelsea Market che dovrebbe essere più o meno nei paraggi. Siamo venuti al Chelsea Market. Vediamo di cosa si tratta. Tondini per roba. Wow. Palienti, strani, mattoncini. Ma è un antico deposito. Quello è un ascensore, un istintore, un semaforo. Wow. Wow. Ragazzi. Ma cos'è questa cosa? L'arte del gelato artigianale di alta qualità. Chelsea Market. C'è veramente tutto strano. Pezzi di legno. È un magazzino riconvertito. Una fabbrica. Devo studiarmi. The National Biscuit Company. Ah, eccole. A questa è la ferrovia by line di una volta. Chelsea Market. C'è il nostro amico di Panzerotti Bite che ci ha suggerito di venire a Los Tacos No. 1. Takeout and Delivery. Vediamo di cosa si tratta. La musica è invitante. A me già piace la musica. Wow. Qui c'è il menù. Quindi c'è carne asata, pollo asato, adobada, nopal. E io penso di prendere la carne asata. Vediamo come si ordina in questo locale. C'è veramente tantissima gente e tantissimo movimento. Tante persone che stanno lavorando. Grazie. 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 La Siria con la birra al Chelsea Market. E a Los Tacos. Ah, Los Mariscos. Questi sono tutti e tre. Abbiamo preso i tacos. Ragazzi, ecco qua i nostri tre tacos. Abbiamo anche preso una orciata e due cerveza. Wow, mi stanno sfornando pizze come se non ci fossero domani. Pizzeria si chiama Filaka. Pizzeria siciliana. Sono... Questa è la dolce inferno. Mamma mia. Tanta roba, ragazzi. Sono attratto da queste vetrine color turchese con Ennis Bread. Sarà una specie di pasticceria e panetteria, diciamo più che altro. L'Amin Stars, no, è tutto più dolce. Adesso siamo ancora sulla linea del salato. Siamo sempre al Chelsea Market. Vi suggerisco di fare un salto qui, ragazzi. Se vi trovate a Manhattan. Veramente è una cosa... Io l'ho chiamato un parco giochi. Tanta roba, tanta gente. Si possono assaggiare prodotti tipici di ogni dove. Dalla pizza italiana al messicano. E vediamo ancora più avanti cosa riusciamo a trovare. Comunque le due birre che abbiamo preso erano alla spina. Molto belle cariche. E sono costate 10 dollari a bicchiere. Qua. Spaghetti to go. La devozione. Quindi sicuramente si parla di Italia. Ma poi c'è un asiatico a cucinare. Ti mettono anche una cascata. Trasformano tutto, ripeto, in parco giochi. O comunque in Universal Studio. Insegna particolare che indica tutto quello che è presente in questo market. Spalza all'occhio quel pastifice di Martino. Sicuramente è qualcosa di italiano. Fish. Ostriche e aragoste a go-go. Perché è anche l'Asia. Leggo da lontano. Tacos. Tacumi taco. Che cosa è? Burritos? Ah vabbè. Deveva essere sempre messicano. Almeno il profumo è quello. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene. Vai, vai, vai. Sì, è il secondo. Non poteva mancare lui a Manhattan. Il Salt Bee. Diamo un'occhiata al locale. Qui ci sono sempre i soldi. I merchandising che li vendono di tutto. Mamma mia, c'è anche le magliette, tutti i gadget immaginabili e possibili del locale. Naturalmente non entriamo all'interno perché non fa per noi ma sembra veramente no salt, no life. Comunque devo dire che i prezzi non sono, diciamo, esagerati. C'è il carpaccio a 21 dollari, il refresh ring salad a 19 dollari, il salmon tartare a 20 dollari. Chiaramente bisogna vedere poi le porzioni. Magari ti portano quei piattini con un pochino di roba. New York Stick a 39 dollari. Fabbrica. Siamo sulla parte di Manhattan, ovest. Qui c'è la piatrina che purtroppo non si vede, ma c'è tanta roba. Peccato che non si possa vedere come si deve. Il nostro signore Google con una mega insegna qui a Manhattan. Andiamo alla stazione della metro per raggiungere il memorial. World Trade Center. Ed ecco in tutto il suo splendore il World Trade Center. Madonna. Stare sotto a questa bestia. Mamma mia. Dietro c'è praticamente un'opera del famoso architetto spagnolo Calatrava. Qui abbiamo un cuore abbracciato da due braccia. Justamente. Ne è abbracciato da due piedi. Le solite fumarole new yorkesi. Eccola qua in tutto il suo splendore. Quest'opera maestosa il signor Calatrava si fa notare comunque. Andiamo magari di entrare dopo. Entriamo nel museo. Memorial dell'11 settembre. Venendo a New York, ragazzi, non poteva mancare la visita al Memorial Museum. National September 11th Memorial Museum. Naturalmente dopo tutti i controlli di rito con Metal Detector come se fossimo in aeroporto. Qui vediamo già, mamma mia, non so come mai, ma mi stanno facendo già un certo effetto. Qui vediamo un paio di travi portanti delle torri gemelle. Come dicevo, queste sono travi portanti delle torri gemelle. Quello che rimane. Mamma mia. Non pensavo facessero già un effetto così. Questo è come si presentava prima lo skyline, guardandolo da Brooklyn. Quelle erano le torri gemelle, le Twin Tower. Ricordo come se fosse ieri, quel giorno. Se non ero, erano le tre di pomeriggio. Quando vidi la notizia in televisione, ma non riuscivo a capire se fosse un film. Ma qualche istante dopo abbiamo capito tutti che era purtroppo realtà. Quello che stava accadendo era del tutto vero. quel famoso 11 settembre 2001. Una brutta cosa, purtroppo. Per tutta l'America, ma anche per tutto il mondo. Ragazzi, siamo proprio alle fondamenta. La base delle Twin Tower. Mamma mia. Mamma mia. Wow. Questa targa era all'esterno delle Twin Tower, messa all'inaugurazione nel 1973, 4 aprile. Si vedono i segni di quel brutto giorno. Qui sono presenti alcune travi. Le hanno naturalmente recuperate e messe qui nel museo. Alcune foto, ricordo, delle vittime. Scusate la voce, ma è davvero emozionante stare in questo luogo. Questa è una delle parti recuperate dalle macerie, delle Twin Tower. È una scala. Si vede benissimo. C'è cemento armato. Uno schiume. Ecco le, praticamente, erano queste scale che stavano all'esterno, che hanno recuperato e messo qui. Questa è una scala che stavano all'esterno, che stavano all'esterno, che stavano all'esterno. Questa è una scala che stavano all'esterno, che stavano all'esterno, che stavano all'esterno. Mamma mia. Questa sono parti delle fondamenta della torre sud. Questa è una scala che stavano all'esterno. Qui hanno riportato alcune fasi della costruzione delle due Twin Tower. Sono tutte strade di calcestruzzo, legno e roccia scavata. Questo qua è un pezzo dell'antenna di una delle due torri. C'è tantissima rame, fili, grovigli. Questo è un pezzo dell'ascensore, del motore dell'ascensore o degli ascensori. Questo è il carro dei pompieri che è stato vittima anche lui di quel fatidico giorno. Da come si presenta, sicuramente gli sono cadute tantissime macerie sopra. Si è praticamente distrutto. Il ladder 3 è stato vittima delle macerie. Queste sono le immagini originali. Ecco, vedi. Ecco, vedi. Questo è un pezzo dell'aereo, di uno degli aerei che è andato a sbattere sulle torri gemelle. Questo qua è il finestrino, praticamente. Cioè, era il finestrino. Madonna. Wonka. È il finestrino. È una miglia dei sbattari. È un po' di più di più di più di più di più. È la miglia. È una miglia per cosa. Cierto. È la miglia di È un po' di più di più di più di più di più. hanno creato questa grande sala sempre nel memorial dell'11 settembre dove ci sono le fondamenta e alcuni pezzi che hanno recuperato dalle macerie tra poco usciamo da questo museo andiamo a vedere dove sorgevano le guardie gemelle all'esterno tutte quelle facciate che vedete lì in fondo sono riportate in questa fotografia per dare un'idea di com'era adesso veramente l'hanno coperto chiuso e tutto protetto queste sono le scale mobili che portano all'uscita ovviamente eravamo lì sotto dove almeno da quanto detto sono state messe le cariche esplosive fatte esplodere in modo tale che le torri non cadessero sulle altre sugli altri palazzi quindi quando hanno visto l'evento a un certo punto hanno dovuto prendere purtroppo la decisione di farle implodere su se stesse ecco spiegato anche il motivo di come mai siano esplose dal basso almeno questa è la notizia che abbiamo saputo poi se c'è qualcosa di diverso ragazzi potete tranquillamente commentare la vostra opinione o se avete altre notizie ragazzi colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al canale lasciate un bel like se il contenuto vi è piaciuto ed è stato di vostro gradimento usciamo finalmente all'area aperta ci sono le travi che abbiamo visto all'inizio le travi metalliche parti appunto del world trade center e lì sullo sfondo si vede la freedom tower il one world trade center andiamo a vederlo dall'esterno siamo finalmente usciti nuovamente all'area aperta ci stiamo avvicinando alle basi dove sorgevano le torri gemelle avevo visto questo luogo tantissime volte in televisione ma dal vivo ragazzi posso assicurarvi che come abbiamo visto più volte in tv o su youtube su altre su altri canali su queste basi metalliche sono riportate tutte le persone che hanno perso la vita in quel tragico giorno sono veramente tantissime queste per esempio sono le persone che hanno perso la vita sul volo 77 sono le persone che hanno perso la vita sono le persone che non stesse Andiamo a vedere dove sorgeva l'altra torre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, vi porto anche all'altra base. Grazie a tutti. Anche qui sono tutti i nomi. Thomas Strada, Billy Spuff Esposito, Milano. Si leggono tantissimi, ma veramente tantissimi nomi in italiano. Guardate quest'altro, per esempio, Allegretto. Ma ne ho visti veramente tanti, tanti, tanti. Plumitallo, sicuramente è italiano, fiorito. Ma veramente tanta roba adesso. Fa veramente impressione. Tutto questo frastuono, questo scroscio d'acqua, penso stia a simbolizzare qualcosa. Damen Baccaccio, Ferreira, Castriano, Spinelli. Ci sono più nomi, cognomi italiani che altri. Luzi Conner, Naples Terzo. Ragazzi. Sì, alle 5, la piazza del Memoriale chiude. Quindi ci stanno facendo andare via. Alle 17. Quindi, purtroppo, le riprese qua terminano. Siamo stati al Memoriale. Ore 5, stanno chiudendo. Fuori, fuori tutti. Basta, fine dei giochi, fine dei selfie, fine delle foto. Quindi, questa è tutta la piazza. Qui abbiamo Calatrava. In questa parte c'è il museo, quindi si scende giù nei semi interrati. Quindi dove c'era il basement, diciamo, giù. Sotto agli scavi delle Twin Tower. E le Twin Tower stavano una qui e l'altra lì. La Torre Sud e questa qua. Qui nasceva la Torre Nord. Quindi vi lascio immaginare, in questo spazio aereo, sorgevano, appunto, le due Torre Gemelle. Breve sosta da Starbucks. Vediamo di prendere un paio di caffè espressi. Giusto per darci la carica e l'energia per continuare. Capire le linee della metropolitana non è così facile. Sembra facile, ma non lo è. Specie per chi viene da un paese dove la metropolitana non esiste. In una delle metropolitane più grandi del mondo. Ragazzi, ci è piaciuto così tanto Brooklyn che siamo ritornati di nuovo qua oggi. Thank you. Stiamo dirigendoci verso la promenade per fare magari il tramonto. se riusciamo. Anche se a Manhattan c'era il cielo blu e qui invece ci sono le nuvole. Il tempo cambia in maniera abbastanza repentina. Promenade. Brooklyn. Qui abbiamo lo skyline di Manhattan. Il Manhattan Bridge è dall'altra parte. Quello lì invece è il ponte di Brooklyn. Siamo sotto al ponte. Bellissimo. Abbiamo fatto un po' di strada, ma alla fine abbiamo trovato il posto che cercavamo. Bellino questo furgoncino. Targato New Jersey. Siamo a un bar sotto Brooklyn. Ice Cream Factory. The original World of Famous. Bella, bella atmosfera. Siamo proprio sotto al ponte. Eccolo qua. Vale, vale. Siamo proprio arrivati sotto al ponte di Brooklyn. I ragazzi di Panzarotti Bites ci hanno consigliato di venire qui da Ignazios a mangiare la pizza, il calzone, oppure altre cose belle. Adesso abbiamo preso un po' di cose per stuzzicare un pochettino. Ci avviciniamo qui al parco a mangiarle. C'è un'area molto bella. Pieno di parchi. Tutti tenuti sempre in ordine. C'è tantissima gente che lavora all'ordine e alla polizia. Ragazzi questa vista spesso l'abbiamo vista in tantissimi film, tantissimi scorci. Qua abbiamo il ponte, lì c'è il World Trade Center, il ponte di Brooklyn in pietra. Questo non ricordo come si chiama questo ponte. Forse è il Manhattan Bridge, ma non vorrei dire fesserie. Ci avviciniamo a vedere anche il mare di New York. Beh, vabbè, no comment, però vabbè. Passando da un carretto abbiamo dovuto prendere qualcosa, come vi dicevo, per stuzzicare. Queste cose le avevamo sempre viste in tv e quindi dovevamo per forza prenderle. Allora qui ci sono delle patatine con ketchup e maionese. Queste sono pollo, pollo fritto, sempre con ketchup e maionese. Così se ci dobbiamo fare male facciamolo per bene ragazzi. Chicken e Tenders, dicono, dalla regia. Non è vero! Una piccola barca a vela. Wow! Beati loro! Quanto li sto invidiando in questo momento. Devo dire che anche da questo punto è sempre bella vedere Manhattan. Che comunque sai cosa c'è lì? Che c'è tutto quel caos, quel macello, quella frenesia, giustamente, della città. E da questa parte invece si respira un'area più soft, più tranquilla. Quindi con appunto parchi, banchine, gente che passeggia in bici, chi col cagnolino, chi col passeggino, bambini che corrono. Bella, veramente bella. Mangiamo queste patatine. Mancano di un po' di sale ma ci sta. Mancano di un po' di sale ma ci sta. Andiamo... Da questa parte c'è una giostra in perfetto stile anni 30 a carosello. Penso che non si veda perché comunque ci sono i riflessi dei vetri. Ci sono i bambini che si divertono con l'acqua. Lì sopra c'è il Time Out Market. Time Out Market, New York. Prendiamo... L'elevator, andiamo sullo rooftop. 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 Wow, senti il profumo d'Italia. Ragazzi, questo era il breve tour che abbiamo fatto nel Time Out Market di New York a Brooklyn. Vi consiglio di fare un salto da queste parti, se vi trovate appunto a New York. sia per ammirare un bel tramonto, comunque una bella vista su tutta Manhattan e sia per mangiare, bere e divertirsi un po'. Mi farà tanto da Colosseo tutta questa struttura con tutti questi archi. e quindi, come se ne ho avuto, mi farò anche se ne ho avuto un po' di più. Mi farò anche se ne ho avuto un po' di più. Mi farò anche se ne ho avuto un po' di più. Almeno sul cellulare, poi vediamo sul computer come sarà durante l'edit. Inizia a fare un po' di freschetto, dovremmo ritornare sull'isola di Manhattan. Siamo ancora a Brooklyn per goderci queste ultime ore di luce, anzi ormai minuti. Manhattan è venuti ad illuminarsi e da sempre il suo fascino. Mi sto innamorando ogni giorno di più di questa città. Abbiamo un po' di più di questa città. Erano questi clip. E' stato un po' di più di più. E' stato di più di più di più. E' stato un po' di più. Ma, magari abbiamo già trovato un po' di più. Ma and一点, siamo andati, siamo andati! Ma e, siamo andati! Sono andati! E' stato amico! Wow! Siamo ritornati nella Grande Mela Siamo di nuovo nel centro di Manhattan Sempre nei pressi di Times Square Stiamo tornando in albergo A buttare queste quattro ossa nel letto A riposare Perché qui, è vero, sono le 21, le 22 Non ricordo Però come fuso orario Siamo un pochettino indietro rispetto all'Italia di 6 ore In Italia in questo momento tutti stanno dormendo Ragazzi, non ho capito bene cosa ci è accaduto Ci sono tantissimi camion dei pompieri di New York No, non ho capito, non ho capito Anche alla14 ore Siamo in Italia Per due Siamo in Italia Siamo in Italia Grazie a tutti Grazie a tutti Vi faccio vedere all'interno del camion cosa c'è Sono i famosi camion dei pompieri di Manhattan Ma ce ne stanno veramente tantissimi e non abbiamo ancora capito cosa sia accaduto Sono tutti accesi, ci sono anche i poliziotti a cavallo Addirittura ci sono anche i pullman dei pompieri Le jeep dei pompieri Le barelle, tutto pronto Ma comunque non abbiamo capito Grazie a tutti Grazie a tutti Pane tostato a due volte Due schiacciatine di carne, due mini hamburger Buongiorno Quella di ieri Che era abbastanza nuvolosa Anzi abbiamo beccato anche un po' di pioggia Stiamo dirigendo in direzione Battery Park o comunque Sud di Manhattan Vediamo cosa ci riserva la giornata di oggi Ragazzi Questa è una bestia enorme Abbiamo il nostro solito supermercato sotto casa Sotto casa Sotto la nostra base qui a New York Sempre tantissimi snack E quindi stiamo prendendo un po' di cose da mangiare Perché la giornata sarà lunga Abbiamo prenotato anche Anzi non ve lo dico Non voglio spoilerare Non ve lo dico cosa abbiamo prenotato Continuate a seguire il video Magari se non l'avete ancora fatto ragazzi Iscrivetevi al canale Lasciate un like Attivate la campanella come solito Per poter ricevere tutti gli aggiornamenti Quotidiani No scherzo Non faccio ancora daily vlog E non penso di farli Perché comunque Sono veramente pesanti Colgo l'occasione per salutare il carissimo Efrem Sto seguendo molti dei suoi consigli Efrem Lamesta Vi lascio il link in descrizione Al suo canale Bravissimo ragazzo Ciao Efrem Alla fine abbiamo scelto di prendere questi due tramezzini C'è una specie di tacchino all'interno A 5 dollari e 49 Ed è uno Poi stiamo prendendo questi quattro paninetti Al costo di 5 dollari e 99 Swiss Sliders Va bene Questi qua E poi un'altra cosa che ancora Non so Stiamo sciogliendo forse Prenderemo anche questi Perché ieri abbiamo preso questi Che erano abbastanza buoni 4 dollari e 99 Chicken Caesar In realtà ci sarebbe anche questa Insalata Un pochettino più salutare Di tutti quei panini Però abbiamo bisogno di carboidrati Perché stiamo facendo tantissimi passi Tipo ieri abbiamo fatto 23.000 passi L'altro giorno 18.000 Quindi ogni giorno stiamo consumando veramente Tanta energia Mi intrigano tantissimo queste insalate Magari la prenderemo per questa sera Abbiamo pensato di prendere anche un po' di mandorle Quindi halmons senza sale Magari ne prendiamo due Costano 99 centesimi Quindi 2 dollari Se sono utili in viaggio Ci danno quella piccola energia Per affrontare la giornata Ci sono anche quelle salate Ma le preferisco senza sale Abbiamo pensato di prendere anche Un pacco Da 6 6 barrette energetiche Costano 4 dollari e 99 Ho visto che quelle singole costano tantissimo Quindi abbiamo preferito prendere il pacco Non mi nascondo Che queste Carni Questi salamini Ogni volta che ci passo Mi intrigano Le vorrei magari prendere Questa è la carne essiccata Magari Prima di partire Ne prendiamo qualcuna da assaggiare Addirittura anche Ma se le inventano tutte Questi stick con formaggio e salame Di vario gusto naturalmente Vabbè Vedremo Facciamo una solita sosta Per prendere l'espresso di Starbucks In mancanza d'altro Dobbiamo accontentarci di questo purtroppo Costa 3 dollari L'espresso E bisogna chiederlo Perché comunque sul menu Almeno io non l'ho mai visto Ho guardato più volte Ma non riesco a leggere l'espresso Quindi lo chiediamo ai ragazzi Piccola sosta Per il cappè E già che rispondiamo sempre a qualche email Siamo da Starbucks Quindi utilizziamo la connessione gratis E devo dire molto veloce Siamo sempre nel centro di Manhattan Siamo a Times Square Nei prestiti di Times Square E' un po' chassoso Purtroppo non ho portato le voze Che ho lasciato Le voze Che ho lasciato in albergo Però Mi ha prenduto la stessa Caffettino Appena preso Eccolo qua Mignone Ristretto Invece poi abbiamo preso una novità E' un caffè Con latte di avena E' zucchero Mi sembra anche cinnamon Cinnamon Cosa? No Ho tolto il coperchio Questo è il nome di Siria E allora Questo è il caffè E chiaramente il bicchiere è un po' grande Ma il caffè E' tutto quello Diciamo Alla fine 3 dollari Diciamo 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 Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti Mi ha smarrito Downtown Broglim Grazie a tutti Grazie a tutti MBA Facciamo di imparare almeno a leggere Ellis Island, Staten Island Ecco come va cucinata la carne Con la crosticina sopra Crosticina sotto E in mezzo Bella Cruda Così dicono poi Andiamo a vedere The Charging Bull La Carica del Toro Una statua totalmente in bronzo Che se non erro è stata donata Da uno scultore Italiano Alla città di New York Non vorrei dire Sciocchezze Magari scrivete Nei commenti Se avete notizie più Più precise delle mie Naturalmente Tutti A farti la foto Il rito vuole Che bisogna fare la foto Toccando Le balls Come buon auspicio Come portafortuna Quindi tutti fotografano Il toro Dalla parte Posteriore Toccando appunto Il portafortuna Del toro Eccoli lì a fare La fila Questa è l'altra faccia Del toro Diciamo Il fronte Donato Come dicevo prima Dall'architetto Italiano Naturalizzato Negli Stati Uniti De Modica Praticamente Lì c'è il toro L'hanno messo In un angolo In un'isoletta Diciamo Dove c'è un bivio E qua ci sono tutti i signori Che vendono I tori In tutte le dimensioni Quello dietro E il toro Ciao toro Salvo È comunque un pezzo d'Italia Sicuramente c'è Sempre l'altra faccia Di tutto questo Lusso In giro Macello Questa che vedete Sulla mia Modestra È la stazione Centrale Grand Central Station Questo è il famoso Ponte Grazie a tutti Siamo al Pier 83 Dobbiamo prendere un ferry boat Se riusciamo siamo con i tempi molto molto stretti Speriamo di farcela Ragazzi quelli sono aerei da guerra E poi vabbè si divertono con i clacson Allora stavo dicendo quelle lì sopra sono degli aerei di guerra Sono su una porta aerei Magari se riusciamo dopo ci avviciniamo Questa è avviciniamo Do you want me to turn it? Sono tutti parte del stesso order, certo? Sì Guardate le passo Andiamo a dare un posto So un posto We have a go The brown chairs on both first and second decks are open seating The black chairs second deck reserved for premiere We make no stops along the way If you're planning on getting off on the Statue of Liberty You're going to make the 7 o'clock news Film at 11 quella è la nave museo che vi parlavo prima portaerei se non erro su quella nave sono saliti amici di step over saluto simone e lucia eri sono quelli sulla coda non so se li vedete in video abbiamo preso il ferry boat che ci sta portando in giro stiamo circunnavigando tutta l'isola di manhattan sicuramente l'audio non sarà dei migliori perché comunque c'è tantissimo vento questo dovrebbe essere il new jersey se non erro siamo sull'altra sponda sulla sponda opposta a manhattan un po' di più ed ecco lei la signora statua della libertà tutto il suo splendore che ci saluta fa sempre un certo effetto anche vedere la mitica statua della libertà siamo cresciuti con questa immagine non sembra ragazzi ma è veramente alta già il piedistallo è altissimo guardate giù ci sono tutte le persone allora andiamo dietro quella è la sua libertà dietro dopo aver fatto tutte le foto di rito selfie a volontà con la mitica statua della libertà come come sfondo stiamo risalendo nuovamente new york cioè la parte di manhattan in direzione nord vediamo dove ci porteranno e cosa ci riserva ancora questo bel video se vi sta piacendo lasciate un like in questo momento ragazzi siamo comodamente seduti sull'intraghietto a guardare e ad ammirare questa bellissima città ci mancava vederla anche dal mare adesso stiamo appunto risalendo manhattan dal lato dei ponti quindi incontreremo per prima il ponte di brooklyn e poi il manhattan bridge è un po' di più Quella lì in fondo è la piattaforma da dove decollano gli elicotteri per fare il tour Sia di giorno e sia di notte di Manhattan c'è la possibilità anche di stare con le gambe a penzoloni Quindi non hanno proprio i portelloni è tutto fatto in sicurezza quindi c'è l'imbragatura Può soltanto cadere l'elicottero quindi noi abbiamo avuto Siria che ha fatto da cavi Ha fatto le riprese con noi per noi e sono quelle che poi vedrete in questo video e anche negli altri episodi Questa è praticamente Brooklyn, è la promenade dove abbiamo fatto diversi video e foto con il tramonto su Manhattan E lì c'è il timido ponte di Brooklyn Dopo il ponte di Brooklyn fra Brooklyn e il Manhattan Bridge c'è il mercato che siamo stati ieri Il Time Out Market New York Ecco siamo quasi quasi sotto al ponte di Brooklyn In tutto il suo splendore Vi ricordo che è l'unico ponte costruito interamente in pietra Naturalmente parlo dei pilastri, delle colonne dell'inizio e della fine Poi tutto l'altro resto è acciaio Ecco ragazzi adesso siamo Vi ho portato tutti sotto il ponte Qui sarà la vostra nuova casa Finiremo tutti sotto i ponti Questo invece è il Manhattan Bridge Che oltre ad avere il passaggio delle auto sopra Giù ha anche il passaggio del treno Quindi ci sono i binari e collega Manhattan al resto del mondo Attraverso anche la ferrovia Questo è totalmente costruito in ferro Wow Mamma mia Il mercato Time Out Market di Brooklyn è quello lì Sta fra il ponte di Brooklyn e il Manhattan Bridge Se vi trovate a New York vi consiglio di fare una capatina lì Lì c'è l'elicottero che gira su Manhattan Ed ecco un po' di acqua e ghiaccio Ci mancava proprio quella limonata Iniziana a mia insaputa E' andata a prendere un bel gin tonic Con lo sfondo di Manhattan Eccolo qua Ci voleva Non vi dico il costo ragazzi Che è meglio Ma per tutti gli iscritti Per voi questo ed altro Ragazzi Dietro quei palazzi che sembrano una cappa al contrario Si nasconde il grandissimo Empire State Building Eccolo lì Sta facendo capolino Da questa parte invece c'è il Chrysler Building Anche lui è stato nei primati come grattacielo più alto del mondo Se non erro per pochi anni perché poi è stato surclassato dall'Empire State Building Servono un po' di energie e carboidrati Abbiamo preso un panino quello che avete visto questa mattina Ed è arrivato il suo momento Mangiamo anche questo piccolo paninetto Devo dire che l'iPhone 13 Pro Max mi sta davvero sorprendendo In questo viaggio lo sto testando Con tantissime luci diverse E devo dire che è veramente Molto performante Ideale per i viaggi Comodo In un attimo Se devi cogliere appunto Una scena Una fotografia O qualcosa che hai visto in velocità È veramente molto molto veloce Apple potrebbe contattarmi Sarei lieto di dare tantissime chicche E tantissime informazioni e upgrade da fare sul prossimo iPhone 14 Guardate il fuoco Come si comporta col fuoco Guardate una velocità di fuoco tremenda Guardate Ora c'è Ora non c'è Siamo nella parte nord di Manhattan E cambia decisamente lo scenario Spariscono i palazzi E il verde la fa da padrona In questa zona Ho visto che si può fare Tutto Si può circonnavidare Oltre che con la barca Anche con l'auto O con l'autobus L'isola di Manhattan Quindi si ha un lungomare Che costeggia tutta l'isola È molto bella Chissà Magari un domani Saremo qui In camper In moto O in auto Vedremo Ad un tratto Sembra di essere Così Nei Caraibi A Santo Domingo In Repubblica Dominicana Eppure siamo A nord di Manhattan Guardate un po' Come cambia Lo scenario Questo è l'estremo nord di Manhattan Abbiamo fatto Diciamo Un bel tratto Lì in fondo Si vede Tutta la city Tutta New York City Lì in fondo Lì Stiamo scendendo quindi Da nord Verso sud Questo dovrebbe essere Se non sbaglio Il fiume Hudson Hudson River Those towers The skyscrapers themselves Each of them 600 feet above The water's edge At high time Enough tables Stung between the two towers Of circle the globe Three times That is one Dispensable Gratis Noi sono that bridge U.S. Route 1 And 95 Boat Interstate 95 That's the least The line line Between Main And Key West Great The road's only Double deck 14 main Suspension bridge Still bad And it's still Long in a bummer Mm-mm-mm Should've been there At 29 Well better the bridge Than off Because the net Bridge are not there In Sydney We would be very Fitted down here Right now On this river We'd be snicking away Box freighters And bankers And subos And I don't know At all Till this bridge Over the 1931 This is the Commercial waterway East From the Mississippi Eccolo Eccolo programmer Eccolo Speaking of Hartz Here at New York City Interact Demonstrate Under Grazie a tutti. Quella è la nave Museo Intrepid, qui al molo di Manhattan, divertimento della marina e aviazione in città di New York. Ragazzi, fine del giro, abbiamo circunnavigato da nord a sud tutta l'isola di Manhattan con questo grande ferry boat. Fare il giro quello più corto, perché questo è quello proprio totale dell'isola. C'è un altro tour che fanno soltanto nei pressi di Manhattan, vanno e vengono dall'isola di Ellis Island, Staten Island, guardano appunto, si concentrano maggiormente sulla zona di Manhattan, quindi non vanno a sconfinare, non vanno comunque a oltranza verso nord per poi appunto circunnavigare. Costa di meno e vale la pena, perché comunque dopo Manhattan, come avete visto nei video, nel video non c'è tantissimo da vedere. E' comunque rilassante, perché ci siamo un pochettino accasciati e adeggiati, ad apprezzare meglio e a riposarsi un pochino. Nel battello è possibile comprare qualsiasi cosa, dai cocktail alle bibite e anche da mangiare. Siamo appena scesi dal traghetto, ci siamo un pochino rilassati e adesso messi anche un po' all'ombra, in quanto quando esce il sole picchia veramente forte. C'è un bar Burger, vediamo se è aperto, magari mi prendo un caffè per ricaricarmi un pochino. Siamo entrati in un caffè. Io ho chiesto un iced coffee, dovrebbe essere tipo il nostro caffè in ghiaccio, ma senza latte di mandorla. Eccola qua. Sicuramente non è quarta e non è il caffè italiano, però alla fine ci accontentiamo, siamo a Manhattan. Questo bar si chiama Romeo e Juliet. Dice che il caffè è 100% colombiano e hanno questo muro a dir poco simpatico, con tutti questi cappelli colombiani. Il caffè ragazzi è pronto, andiamo a vedere se veramente è buono. Qui ci sono i campi di dove coltivano il caffè in ghiaccio, in Colombia. Il bar si chiama Romeo e Juliet. Il caffè ragazzi è buono. Il bar si chiama Allora, no, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci passiamo dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Buba Camp. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E si arriva sopra. Questo che vedete adesso di fronte è il Flat Iron, il mitico palazzo a forma di ferro da stila. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso siamo arrivati al quartiere di Chinatown. Ci sono tantissimi venditori all'aperto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo sul Manhattan Bridge. Grazie a tutti. 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 Harry Potter. Dallas BB Key Kitchen. Clubhouse. Siamo stati rapiti fortemente da un profumo molto appunto di Chinabon. Stiamo entrando a prendere uno. Che comunque non riusciamo a resistere. Ciao. Vai. Mamma mia ragazzi. L'odore è fortissimo. Mamma mia mamma. Non so se riuscite a vedere la grandezza. Sono veramente molto grandi e il profumo non riesco a descrivere lo segnale. Aiaiaiai ragazzi. Qua mi prendono per la gola e non riesco a fermarmi. Wow. Lo so che non sono cose salutari però ragazzi. Penso di prendere magari uno di questi. Una confezione di questi penso di doverla prendere. E la faccio per voi ragazzi. Sono due ragazze che preparano tutte queste delizie. Tutte queste cose qua. Ragazzi ce l'abbiamo fatta. Lo scatolo qui brucia tantissimo e non vi dico il profumo. E così. Mamma mia. Dovevo per forza assaggiarne uno per voi. Questo lo mangio per tutti gli iscritti. Continua il tour gastronomico a Manhattan. Quello mentre cammino. Siamo stati da... Henty Hannes. Non so come si pronuncia bene. Comunque abbiamo comprato i cinnamon e quello che avete visto che abbiamo mangiato prima. e adesso stiamo andando da un'altra parte a degustare qualcosa a base di pollo. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Per adesso abbiamo aperto le danze. fermati qui da Chick-fil-A. Sì, corretto. Quindi la Chick-fil-A chicken. Il menù. Alla fine ci hanno catturato tutti questi menù veramente fotografici che io amo tantissimo. Abbiamo ordinato un po' di cose che vedremo tra poco. Abbiamo preso questo posto praticamente in vetrina sulla 42esima. Abbiamo comprato, sono tutti i test che stiamo facendo naturalmente per voi. Ragazzi, ho un problema. Mi piace tutto. Vi faccio vedere più meglio. In questo modo. Panino al pollo fritto. Praticamente le nuggets vanno mangiate in questo modo. Questa è una salsa buffalo. Non l'avevo mai assaggiato, però è buona. Mi tocca assaggiare e dare il primo morso. Ragazzi, abbiamo apprezzato tanto Chick-fil-A. Si trova a due passi da Times Square. Fra la 43esima e l'ottava. Fra la 43esima e l'ottava strada. E' proprio all'angolo. Giro la camera per farvi vedere meglio. Praticamente la 43esima e l'ottava. Qui siamo all'angolo. E questo è il locale dove abbiamo assaggiato e gustato quello che avete visto. Ragazzi, questa è l'ultima sera che stiamo qui a New York. Domani abbiamo un nuovo volo. Si cambia location. Rimanete connessi. Seguite tutti gli episodi perché ci sarà tanto tanto da vedere. Condividete il video anche con i vostri amici o con chi vi fa piacere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Se avete informazioni da chiedervi, sarò felice di rispondere nei commenti in tempi relativamente molto brevi. Passeggiando, passeggiando, siamo arrivati alla Harry Potter and Corset Child. Praticamente questo palazzo grandissimo, tutto illuminato. Con questa grafica veramente, ragazzi, Manhattan sembra un parco giochi all'aperto. Veramente. Guardate qua, che mega bestione ci è parcheggiato qua. Questo tenete presente che è un camion per la spazzatura. Sì. Signori. Time Square. E qua c'è il Dipartimento della Polizia di New York. A tenere sotto controllo tutta questa città, ragazzi, non è facile. È pieno, pieno di auto, di polizia e poliziotti. Stiamo andando alla Grand Central Terminal, quindi alla stazione centrale dei treni di New York. E in alto lì fa capolino il Chrysler. E qui abbiamo il bellissimo MetLife. Una piccola curiosità. Noi in Italia abbiamo un piccolo grattacielo che assomiglia al MetLife, che se non erro ha fatto lo stesso architetto. Ed è il pirellone che abbiamo a Milano. Grazie. 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 Questo è il box del train information, quindi qui si fanno i biglietti e si chiedono le informazioni. Tutto in bronzo tirato a lucido. Qui ci sono i Brezel, tanti altri prodotti che vendono qui ai carretti. Quando verrete a New York ne troverete uno a ogni angolo, anzi a volte ce ne stanno anche due o tre, uno a fianco all'altro. Questo è proprio sotto al ponte della stazione centrale di New York. Questa è la storica entrata. Che bella! Mi piace che da questo punto di vista sono molto conservatori e usano materiali che durano all'infinito. quali bronzo, rame, ferro, legno, alluminio, acciaio, tutti i prodotti che comunque durano tantissimo nel tempo. E poi c'è tutta questa illuminazione vintage. Bello! Sono contento di essere ritornato dopo tantissimi anni. Non ci speravo. Normalmente lì c'è un carretto che io prenderei a pugni chi ha dato l'autorizzazione a mettersi lì. Cioè proprio in quel posto. Dico no. Si può mettere in un qualsiasi altro luogo. Guardate che strana coreografia che sta facendo l'Empire State Building. Stanno facendo questo gioco di luci come quasi per salutarci perché comunque per noi sarà l'ultima sera qui a New York. Grazie. i am a so layer di video i am a so layer di video i am so layer di video e l'occurazione ma poi la merda Grazie a tutti. Grande orologio di Times Square, colui che scandisce il tempo. Un'auto compattatore. Per gli inseguimenti più veloci e più intrepidi, corriamo con la Smart. E gira, rigira. Per poco non mi facevano fuori. Per gli inseguimenti più veloci. Per gli inseguimenti più veloci. Per gli inseguimenti più veloci. Per gli inseguimenti. Per gli inseguimenti più veloci. 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 Quindi rimanete connessi. Continuate a guardare ancora il video. Per vedere cosa ci sarà dopo. 전� Mini. Tutta fresca. Lì in fondo c'è sempre Times Square. E qui c'è un salotto con tavolini, sedie. Dove poter gustare una bibita, una colazione Questi bestioni fanno sempre un certo effetto Guardate come sono belli, articolati questi camion Quelle marmitte moleste Qua abbiamo un vecchio bestione della Dodge Non so se si capisce l'altezza o la grandezza Wow Wow Continuiamo il nostro walking tour In Manhattan Sono le sette e mezza del mattino E come vedete Manhattan è già sveglia da un bel po' C'è tutto un fuggi-fuggi generale Persone che corrono lavoro Turisti Residenti Qui c'è un grande parco dove ieri stavano facendo Stavano trasmettendo un cinema all'aperto C'era veramente tantissima gente Era bello Purtroppo non siamo entrati perché Al nostro arrivo era già finito Qui siamo tra la quarantacintesima E la sesta strada Destra east side Siamo tra la quarantottesima e sesta strada Dovremmo essere molto vicini al Rockefeller Center Dobbiamo correre È rosso Questi sono gli studios Del NBC Più avanti c'è il Radio City Music Hall E siamo arrivati alla cinquantesima strada Percorriamo sempre La sesta noi Tutti che corrono Tantissimi businessmen Chi corre a destra Chi a sinistra Chi al lavoro Forse è quella la chiesa di San Patrick Forse Non lo scopriremo mai Che non abbiamo avuto Tempo di avvicinarci Comunque adesso stiamo andando Al Rockefeller Center Ragazzi vi lascio i link In alto a sinistra Alle schede Per vedere anche Gli altri episodi Girati a New York E anche in descrizione Vi lascerò L'elenco degli episodi Quindi Se siete arrivati a questo video Vi invito a vedere anche Gli altri precedenti a questo Abbiamo girato tutto il palazzo Questa è la famosa emittente televisiva Siamo arrivati al Top of the Rock Observation Deck Questa è la fila Per fortuna abbiamo fatto Sveglia presto E quindi non c'è tanta gente Al momento Stiamo entrando nel Top of the Rock C'è un lampadario Con tantissimi cristalli Come al solito Bisogna fare i controlli Di sicurezza Come in aeroporto Quando si entra in questi Palazzi E attrazioni Wow C'è un freddo ragazzi Come al solito Climatizzatori A palla Sembra di stare in una cella frigorifera Qua ci sono i bagni Che si chiamano Restrooms E' tutto E' un theater Ed è subito Theater Ma quante ne sanno Quante ne sanno Thank you Siamo a correre Top of the Rock Si sa mi di buon Detto dalla fine Ed è subito Videogioco Ogni momento è bello Per trasformare tutto In videogioco Qui c'è l'ascensore C'è praticamente il tunnel Dell'ascensore Siamo al 50 Oh le orecchie Wow 66 67 67 67esimo piano Buon morning Buon morning Ragazzi Alzarsi presto questa mattina Ne è valza veramente la pena Siamo praticamente i primi Che stiamo aprendo il top of the rock Ci sono due che se ne saremmo dimenticati qua ieri sera Ed ecco il rooftop Wow Voilà Quella lì in fondo E' Central Park Ragazzi Questo è il tetto del top of the rock ragazzi Queste sono tutte le antenne E i radar vari E qui si ha una vista in direzione sud di Manhattan Devo dire Che mi piace molto di più Non intendo la vista Ma il fatto di aver messo I cristalli Anziché quelle griglie O quelle ringhiere In acciaio inox Come all'Empire State Building Da qui Con i vetri Non lo so Lo preferisco a livello fotografico Seguitemi Ragazzi Visto che siamo i primi Ci stanno facendo salire Ancora più su Dove ci sono Le antenne Seguitemi Vedrete Una scena Davvero Molto Wow Ragazzi Guardate Cosa si vede da qua su Così è vedere Dal terrazzo Senza vetri Senza ringhiere Senza nulla Tutta quella È Central Park Se non erro È 3 km Per 5 Di lunghezza Magari Vi scriverò le misure In post Ragazzi Che vista Non vi dico I profumi Che arrivano Qui su Di tutte le colazioni Di New York Di questa mattina Da qui Ammiriamo L'Empire State Building Dove Siamo stati Qualche giorno fa Vi lascio Sempre il link In descrizione Per vedere Tutte le esperienze Che abbiamo fatto Quel giorno E in particolare L'esperienza Fatta Sull'Empire State Building Al tramonto Che vi suggerisco Di farla A quell'ora Perché comunque Beccate Sia Il tramonto Bellissimo E L'accensione Della città Pian piano Vedrete le luci Che andranno Via via Accendendosi E creare Uno scenario Veramente bello Quella lì In fondo Piccolina Che da qui Sembra piccola E la statua Della libertà Della indico Eccola E' lì Piccolina Qui c'è tutto Il New Jersey Lutton River Da questa parte Vediamo Il MetLife E il Chrysler Building Siamo veramente alti Dovremmo vedere No Da qui non si vede Il ponte di Brooklyn Non si vede Ma si vede Il Manhattan Bridge E' probabile che Spostando questo palazzo Magari andiamo Dall'altra parte Allora Lì in fondo C'è Il Manhattan Bridge E subito dopo C'è il ponte Il ponte di Brooklyn Dunque qui Vedo che hanno messo Tantissime monetine Centesimi Di dollaro Sicuramente Come portafortuna Come portafortuna Da qui riusciamo A vedere Sempre la famosa Sfera Di Capodanno C'è questa bellissima Ringhiera Non si muove Da una virgola E qui c'è anche Un'insegna Nelita sta più giù Un'insegna Questo è sempre Qualcosa che ha a che fare Con la struttura Con l'abbellimento Di questo Di questo tetto Qua c'è Una bellissima Panoramica Su tutta Manhattan Verso sud Si sentono Gli aerei Che ci passano A fianco In direzione Nord Abbiamo Central Park Uno dei Parchi Urbani Più grandi Del mondo Con al centro Due bellissimi Laghi Uno è veramente Grande Addirittura C'è tutto Il percorso Per fare Delle belle Passeggiate Per fare Running Ci sono Tantissimi Prati Dove potersi Sdragliare E ci sono I campi Da baseball Per allenarsi In effetti L'altro pomeriggio E vi lascio Il link In descrizione C'erano I maestri Che allenavano I giovani Ragazzi Giovani Giocatori Di baseball Faccio anche Questa bella Panoramica Questi grattacieli Hanno appartamenti Da milioni E milioni Di dollari Sono veramente Quotatissimi Mi piacerebbe Tanto fare Un home tour Di questi Appartamenti Che sono In questi palazzi Che si affacciano Su tutta Manhattan Ma principalmente Sul giardino Di Central Park Ma fa comunque Una certa impressione Sapere di dormire In questi Palazzi A stecco Io li chiamo così Cioè Ma vi rendete conto Dormire su questi Stecchi così Alti Alti E fini Ragazzi Questo qua E' un altro Bellissimo Grattacielo E' uno degli ultimi E' il Vanderbilt Summit 1 Ragazzi Pian piano Si è riempito Anche questo Questo terrazzo Questo ultimo piano Ultimissimo piano Del Top of the Rock La vista E' A dir poco Mozzafiato E la temperatura Veramente Gradevole E non so Se ve l'ho detto Noi siamo venuti A New York In periodo invernale Era dicembre Pre-natalizio Bella In New York Pre-natalizia Tutto quello che vuoi Luce Illuminazione Perché comunque E' tutta una festa Il Natale Manhattan E' quello che ci hanno sempre Inculcato Fin da piccoli Che è un sogno Quindi con la neve Però Venire in questo periodo E girare Manhattan A maniche corte Sinceramente Lo preferisco Continuate a seguirci E lasciate un like Se queste immagini Vi sono piaciute Siamo al Sessantasettesimo piano Ho dovuto Leggere Cambiamo location Andiamo a vedere Qualcos'altro Mi dispiace Lasciare Questa vista Però purtroppo Dobbiamo andare a fare Qualcos'altro Qui c'è una scritta Dove tutti Si stanno facendo Le fotografie E naturalmente Anche noi Ne abbiamo Approfittato Ragazzi Stiamo Lasciando Questa bellissima terrazza Purtroppo Non possiamo Fare tutta la giornata Qui dentro L'abbiamo Per forza Cambiare Adesso andremo Più vicino C'è il Rockefeller Center E ancora più vicino C'è la chiesa La famosa chiesa Di St. Patrick Che è probabile Che riusciamo a vederla Si trova sulla Quinta strada Continuate a seguire il video Bye Bye I reparti Gadget E anche Ristorante Naturalmente Sanno davvero Fare Turismo Per quanto mi riguarda Io Apprezzo Tanto Una delle cose Belle Sorprendenti È che ci sono Tantissimi Giovani Che lavorano Di tutte le età Di tutte Le nazionalità È una cosa Veramente Lodevole Riescono A fare Thank you Riescono A fare Turismo In maniera Eccellente Ci sono Sempre Bagni Servizi Igenici Fontanine Aree Climatizzate Pulizia Tutti I ragazzi Appunto Che ti indicano La direzione Non ti lasciano mai Smarrito Tutti Sempre gentili Con il sorriso Veramente Lodevole Tanto di cappello Ristoranti Happy days Pizza time Wow Bellissimi Quei patti Tantissima 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 Gente Che lavora Manutentori Di tutte Di tutte Le nazionalità Che stanno lì A sistemare Ogni lampadina Ogni cosa Cioè Non Non vedi mai Il degrado Tutto fatto Con cura E sono soddisfatti Di quello che stanno facendo Sono orgogliosi Orgogliosi Del lavoro Che stanno facendo Di come lo stanno facendo Ragazzi Questo fuori È il famoso Rockefeller Center Dove Se non sbaglio Proprio lì Sulla destra Fanno L'albero Più grande Del mondo Comunque Proviamo Ad uscire fuori Siamo Usciti dal Top of the Rock E adesso Stiamo andando Allora Rockefeller Center Eccolo qua Ci sono Tantissime Bandiere Della pace Ma veramente Tante 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 Ragazzi Qui A Rockefeller Center Hanno Issato Tantissime Bandiere Della pace Ce ne stanno Veramente Tante Non riesco Neanche A contarle Ci sarà Un numero Penso In genere Quando fanno queste cose Non fanno mai Nulla al caso Ma Ha sempre Un significato Spero che sia Un segno forte Un simbolo Un segnale Forte per quello Che sta accadendo In questi ultimi mesi Cioè la guerra Tra Russia E Ucraina Una cosa Molto brutta Per tutti e due i popoli Io non condanno L'uno o l'altro Spero che finisca presto Per tutti Non solo Per donne e bambini Ma per tutti Uomini Anziani Per le città Che vengono Che vengono Comunque Bedruppate Distrutte Sono comunque Segni Che non Facilmente Si riescono Poi Sono Cose veramente Scusatemi Mi fa Davvero male Parcare di questa Vi faccio una panoramica Al Rockefeller Center Qui è dove A Natale O comunque Nel periodo Natalizio Fanno L'albero Più grande Del mondo Se non erro Lo fanno In quella direzione Lì Noi prima Eravamo Sul terrazzo Lì Del top Of the rock Sessantasettesimo Piano Guarda come sono belli Questi giardinetti Sedie Panchine Un arredo Sempre Contestualizzato Cioè Anche se qui C'è per esempio Un prato finto Però È bello Ci si può sedere C'è pulito Non ci sono Escrementi di cani Liquidi vari Puzzolenti Che purtroppo Usciamo Stiamo dirigendo Alla chiesa di San Patrizio Sulla Quinta strada Ci eravamo passati Tantissimi anni fa Ma non ci siamo mai Avvicinati Alla chiesa Speriamo che sia aperta Mi piacerebbe tantissimo Vedere Com'è Nel suo interno Mi piacerebbe anche trovare Un caffettino Ne avrei proprio bisogno In questo momento Di un bel caffè La chiesa È questa Alle mie spalle Tra poco Ci avviciniamo Qui c'è la targa Del Rockefeller Center 1989 C'è anche lì La musica ragazzi Non è un locale Il comune Il comune di New York La città di New York Ed ecco La chiesa di San Patrick In tutto il suo splendore Wow Pensavo che fosse Da qui l'entrata Invece È dall'altra parte Queste griglie Non mi fanno impazzire Con queste foglie finte Sono sempre odiate Sinceramente C'è una fila Incredibile Ragazzi È veramente Grande Grande Mamma mia Wow Siamo all'interno Della chiesa Di San Patrick Siamo riusciti Ad entrare E superare Un po' di file Perché c'era Una scolaresca Veramente Wow Sono dei Mosaici Fantastici Delle vetrate Colorate Molte belle Facciamo Un giro veloce Quello che è Tra le panche Ci sono Praticamente Le Le bibbie Wow Display Per far vedere La messa A tutti Da ogni angolo È veramente Grande Ma grande Veramente Mamma mia Ecco Uno Dei mosaici Che vi parlavo Prima Mamma mia Veramente Fatti bene Molto belli Una delle cose Sorprendenti E che ti facciano Comunque Fare Foto E video In totale Tranquillità È capitato Spesso Entrare In alcune chiese Nel mondo Dove era Vietato Fare Una Qualsiasi Fotografia Ma Non capisco Il motivo In questa Grande chiesa Al centro Di new york È possibile Fare foto E video Tranquillamente Anche perché Non vedo Cosa ci sia Di male In questo Ragazzi C'è un organo In legno In legno Massiccio Grandissimo Che sta Praticamente Alle spalle Del rosone Che si vede Sulla facciata Anteriore Della chiesa Acqua Santa La croce Prima Stiamo Correndo In aeroporto Quindi Non possiamo Entrare In questo Bellissimo Negozio Mi spiace Avrei voluto Fare Bryant Ah la maglietta Di Kobe Preso L'autobus Per raggiungere L'aeroporto La guardia Di new york Eccoci Arrivato Al terminal B Bello grande Questo aeroporto Sai che non ricordo Se qua sono già stato Che praticamente A new york Sono venuto Nel 2010 E mi ricordo Che abbiamo fatto Scalo A new york Questo è il bagno E' il bagno dell'aeroporto La guardia Di new york Mamma mia C'è Le finiture Veramente Tutto in acciaio Tutto ordinato Il pavimento Brillantato Led A luce riflessa Va' Ma' ho visto una marins i marins dal vivo qui ci sono i lavandini con le fontanine per gli adulti e per i bambini e da lì è possibile in forma gratuita riempire la propria borraccia belle queste sculture che fanno negli aeroporti veramente molto bella allora noi dobbiamo andare in quella direzione dove c'è quel gate giallo e c'è scritto 2 all gates quindi tutti i gate da lì noi naturalmente abbiamo fatto già il check in online quindi siamo avvantaggiati da questo punto di vista abbiamo svuotato la borraccia d'acqua altrimenti ce la bloccano e poi ci dovrebbe essere la possibilità di riempirla dopo andiamo ai controlli mmm quante cose buone beh le mandorle non sarebbe male certo a 9 dollari uh tutti i lego magari potrei comprare qualcosa ma non so che farmene sinceramente ormai siamo nella fase di non comprare tanti gadget o altro da portare con noi ma soltanto siamo per l'essenziale campellino dei new york yankis costa 34 dollari e 95 beh il prezzo è buono per lasciarlo appoggiato qui eh eh new york jets andiamo a trovare qualcosa da sgranocchiare meglio con quei 34 dollari magari ci facciamo un bel pranzetto vedo in lontananza hill country dunkin e beh queste sono le cose che mi piacciono wow vedo dell'acqua che arriva dal soffitto cioè hanno fatto una una specie di cascata per attirare l'attenzione un'altra trovata del giorno ma l'inventore di tutte queste cose vorrei vedere l'architetto che se li inventa avvicinati da hill country barbecue sandwich fried chicken come invece stiamo ordinando un paio di hamburger con pollo e questi altri texas tenders allora siamo all'aeroporto la guardia abbiamo appena preso un panino leggero con cetriolini pollo e delle salsine orange e barbecue e poi qui abbiamo qualcosa per terminare in bellezza ma questo è soltanto l'inizio aver mangiato mezzo aeroporto ci stiamo incamminando nella direzione del gate utilizzando le pedane tipo scala mobile però e pedane in linea tipo non mi ricordo cosa si chiama più ragazzi non abbiamo resistito siamo andati a prendere un caffè doppio di quattro oads un mega muffin schiacciato che sorride o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.